La storia di Elsa Morante Capitolo primo Un giorno di gennaio dell'anno 1941 un soldato tedesco di passaggio godendo di un pomeriggio di libertà si trovava solo a girovagare nel quartiere di San Lorenzo a Roma Erano circa le due del dopopranzo e a quell'ora, come d'uso, poca gente circolava per le strade Nessuno dei passanti poi guardava il soldato perché i tedeschi, pure se camerati degli italiani nella corrente guerra mondiale non erano popolari in certe periferie proletarie né il soldato si distingueva dagli altri della sua serie alto, biondino, col solito portamento di fanatismo disciplinare e specie nella posizione del berretto una conforme dichiarazione provocatoria Naturalmente, per chi si mettesse ad osservarlo non gli mancava qualche nota caratteristica Per esempio, in contrasto con la sua andatura marziale aveva uno sguardo disperato la sua faccia si denunciava incredibilmente immatura mentre la sua statura doveva misurare metri 1,85 più o meno e l'uniforme, cosa davvero buffa per un militare del Reich specie in quei primi tempi della guerra benché nuova di fattura e benché attillata sul suo corpo magro gli stava corta di vita e di maniche lasciandogli nudi i polsi rozzi grossi e ingenui da contadinello o da plebeo Gli era capitato, in vero di crescere intempestivamente tutto durante l'ultima estate e autunno e frattanto in quella smania di crescere la faccia, per difetto di tempo gli era rimasta ancora uguale a prima tale che pareva accusarlo di non avere neanche la minima anzianità richiesta per l'infimo suo grado Era una semplice recluta dell'ultima leva di guerra e fino al tempo della chiamata ai suoi doveri militari aveva sempre abitato coi fratelli e la madre vedova nella sua casa nativa in Baviera nei dintorni di Monaco La sua residenza precisamente era il villaggio campestre di Daco che più tardi alla consumazione della guerra doveva rendersi famoso per il suo limitrofo campo di lavoro e di esperienze biologiche ma ai tempi che il ragazzo cresceva nel villaggio quella macchina delirante di massacro era ancora alle sue prove iniziali e clandestine nelle adiacenze e fino all'estero essa veniva addirittura lodata come una sorta di sanatorio modello per i devianti a quei tempi il numero dei suoi soggetti era di 5 o 6 mila forse ma il campo doveva farsi di anno in anno più popoloso da ultimo nel 1945 la cifra totale dei suoi cadaveri fu di 66.428 però le esperienze personali del soldato come non potevano spingersi ovviamente fino all'inaudita avvenire così pure nei confronti del passato e dentro lo stesso presente erano rimaste finora assai confuse poche e ristrette per lui quel villaggetto materno in Baviera significava l'unico punto chiaro e domestico nel ballo imbrogliato della sorte fuori di là finché non se l'ha fatto guerriero aveva frequentato soltanto la prossima città di Monaco dove andava per qualche lavoro di elettricista e dove da non molto aveva imparata a fare l'amore con una prostituta anziana la giornata d'inverno a Roma era coperta e sciroccale era finita ieri l'epifania che tutte le feste si porta via e appena da pochi giorni il soldato aveva concluso la sua licenza natalizia passata a casa con la famiglia di nome si chiamava Gunther il cognome rimane sconosciuto lo avevano scaricato a Roma quella mattina stessa per una brevissima tappa preparatoria lungo il viaggio verso una destinazione finale la quale era di conoscenza riservata allo stato maggiore però ignota alle truppe fra i camerati del suo reparto si congetturava in confidenza che la meta misteriosa fosse l'Africa dove si intendeva pare predisporre dei presidi in difesa dei possedimenti coloniali dell'Italia alleata questa notizia lo aveva elettrizzato in partenza con la prospettiva di un'autentica avventura esotica Africa per un appena cresciuto che i suoi viaggi li faceva in bicicletta o sull'autobus che porta a Monaco questo è un nome Africa Africa più di mille soli e diecimila tamburi Zanz Tammo Tamma Bao Bab Ibar mille tamburi e diecimila soli sugli alberi del pane e del cacao rossi arancioni verdi rossi le scimmie giocano al calcio con le noci di cocco ecco il capo stregone Rubumbu sotto un ombrello di penne di pappagallo ecco il predone bianco a cavallo d'un bufalo che batte i monti del drago e dell'Atlante Zanz Tam Tam Bao Bab Ibar nelle gallerie delle foreste fluviali dove i formichieri ci saltano a stormi ho una capanna aurifera e diamantifera e sul mio tetto uno struzzo ci fa il nido vado a ballare coi cacciatori di teste ho incantato un serpente a sonagli rossi arancioni verdi rossi dormo su un'amaca nel Ruensori nella zona delle mille colline acchiappo i leoni e le tigri come lepri vado in canoa sul fiume degli ippopotami mille tamburi e diecimila soli acchiappo i coccodrilli come lucertole nel lago onnigami e nell'impipo questo qua in Italia era il suo primo sbarco all'estero e poteva già servirgli come anticipo per la curiosità e l'eccitamento ma anche prima di arrivare all'uscita dai confini di Germania lo aveva sorpreso un'orrenda e solitaria malinconia che denunciava la sua indole non formata piena di contrasti un po' di fatti il ragazzo era impaziente di avventura ma un altro po' rimaneva a sua insaputa un mammarolo un po' si prometteva di compiere azioni ultraeroiche da fare onore al suo Führer e un altro po' sospettava che la guerra fosse un'algebra sconclusionata combinata dagli stati maggiori ma che a lui non lo riguardava per niente un po' si sentiva pronto a qualsiasi brutalità sanguinosa e un altro po' durante il viaggio ruminava continuamente un'amara compassione della sua prostituta di Monaco al pensare che ormai quella troverebbe pochi clienti perché era vecchia via via che il viaggio procedeva verso sud l'umore triste in lui prevalse su ogni altro istinto fino a renderlo cieco ai paesaggi alla gente e a qualsiasi spettacolo o novità eccomi portato di peso si disse come un gatto dentro un sacco verso il continente nero non Africa pensò stavolta ma proprio continente nero vedendo l'immagine di un tendone nero che già fin d'ora gli si stendeva sopra all'infinito isolandolo dai suoi stessi compagni presenti e sua madre i suoi fratelli i rampicanti sul muretto di casa la stufa dell'ingresso erano una vertigine che si allontanava al di là di quel tendone nero come una galassia in fuga per gli universi in questo stato giunta alla città di Roma usò del suo permesso pomeridiano per buttarsi solo a caso nelle strade prossime alla caserma dove avevano sistemato il suo convoglio per la sosta e capitò nel quartiere di San Lorenzo senza nessuna scelta come un imputato accerchiato dalle guardie che ormai della sua ultima libertà irrisoria non sa più che farsene meno che d'uno straccio sapeva esattamente numero quattro parole in tutto d'italiano e di Roma sapeva soltanto quelle poche notizie che si imparano alla scuola preparatoria per cui gli fu facile supporre che i casamenti vecchi e mal ridotti del quartiere San Lorenzo rappresentassero senz'altro le antiche architetture monumentali della città eterna e all'intravedere oltre la muraglia che chiude l'enorme cimitero del verano le brutte fabbriche tombali dell'interno si figurò che fossero magari i sepolcri storici dei cesari e dei papi non per questo tuttavia si fermò a contemplarli a quest'ora per lui Campidogli e Colossei erano mucchi di immondezza la storia era una maledizione e anche la geografia per dire il vero l'unica cosa che in quel momento lui andasse cercando distinto per le vie di Roma era un bordello non tanto per una voglia urgente e irresistibile quanto piuttosto perché si sentiva troppo solo e gli pareva che unicamente dentro un corpo di donna affondato in quel nido caldo e amico si sentirebbe meno solo ma per uno straniero nella sua condizione e in quell'umore torvo e forastico che lo opprimeva c'era poca speranza di scoprire un simile rifugio là in giro a quell'ora e senza nessuna guida né per lui si poteva contare sulla fortuna di un incontro di strada occasionale giacché pur essendosi sviluppato senza quasi saperlo in un bel ragazzetto il soldato Gunther era tuttavia piuttosto inesperto e in fondo anche timido ogni tanto si sfogava a calci contro i selci che gli capitavano fra i piedi forse distraendosi per un attimo nella fantasia con la finzione d'essere il famoso Andreas Kupfer o qualche altro suo proprio idolo calcistico ma immediatamente si ricordava della propria uniforme di combattente del Reich e riprendeva il suo contegno con una scrollata che gli spostava un po' col berretto l'unica tana che gli si offerse in quella sua misera caccia fu un seminterrato giù da pochi gradini che portava l'insegna vino e cucina daremo e rammentando che quel giorno per mancanza di appetito aveva regalato il proprio rancio ad un camerata subito avvertì un bisogno di cibo e si calò in quell'interno accarezzato da una promessa di consolazione sia pure minima sapeva di trovarsi in un paese alleato e si aspettava dentro quella cantina accogliente non certo le cerimonie dovute ad un generale ma senza altro una familiarità cordiale e simpatica invece sia l'oste che il garzone lo accolsero con una freddezza svogliata e diffidente e con certe occhiate storte che gli fecero passare la fame subito e allora invece di sedersi per mangiare rimasto in piedi al banco ordinò minacciosamente del vino e lo ottenne dopo qualche resistenza dei due e qualche loro confabulazione privata nel retrobottega non era per niente un bevitore e in ogni caso al sapore del vino preferiva quello della birra a lui più familiare fin da quando era piccolo ma per dimostrazione contestataria al garzone e all'oste in arie sempre più minacciose si fece servire una dopo l'altra cinque misure da un quarto e le vuotò tracannandole a gran colpi come un bandito della sardegna quindi buttò violentemente sul banco quasi tutti i pochissimi soldi che aveva in tasca mentre una rabbia lo tentava a buttare all'aria il banco e i tavoli e a comportarsi non più da alleato ma da invasore e d'assassino però una leggera nausea che gli saliva dallo stomaco lo trattenne da ogni azione e con passo ancora abbastanza marziale risortì all'aria aperta il vino gli era sceso alle gambe e salito alla testa e nel putrido scirocco della strada che gli gonfiava il cuore ad ogni respiro lo prese una voglia impossibile d'essere a casa rannicchiato nel suo letto troppo corto fra l'odore freddo e paludoso della campagna e quello tiepido del cavolo capuccio che sua madre ribolliva in cucina però grazie al vino questa enorme nostalgia invece di straziarlo lo resa allegro per chi va in giro mezzo ubriaco tutti i miracoli almeno per qualche minuto sono possibili può posarglisi davanti un elicottero di ritorno immediato per la baviera o arrivargli per l'aria un radiomessaggio che gli annuncia un prolungamento della sua licenza fino a Pasqua fece ancora qualche passo sui marciapiedi poi svolto a caso e al primo portone che trovò si fermò sulla soglia con l'intenzione spensierata di accucciarsi là dentro e dormire magari su un gradino o in un sottoscala come susa di carnevale alle feste in costume quando si fa quel che ci pare senza che nessuno ci badi si era scordato dell'uniforme per un buffo interregno sopravvenuto nel mondo l'estremo arbitrio dei bambini ad esso usurpava la legge militare del Reich questa legge è una commedia e Gunther se ne infischia in quel momento qualsiasi creatura femminile capitata per prima su quel portone non diciamo una comune ragazza o puttanella di quartiere ma qualsiasi animale femmina una cavalla una mucca un'asina che lo avesse guardato con occhio appena umano lui sarebbe stato capace di abbracciarla di prepotenza magari buttata ai piedi come un innamorato chiamandolo main matter e allorché di lì ad un istante vide arrivare dall'angolo un'inquilina del caseggiato donnetta d'apparenza dimessa ma civile che in quel punto rincasava carica di boss e di sport non esitò a gridarle signorina signorina era una delle quattro parole italiane che conosceva e con un salto le si parò davanti risoluto benché non sapesse nemmeno lui che cosa pretendere colei colei però al vedersi affrontata da lui lo fissò con occhio assolutamente disumano come davanti all'apparizione propria e riconoscibile dell'orrore capitolo secondo la donna di professione maestra elementare si chiamava Ida Ramundo vedova mancuso veramente secondo l'intenzione dei suoi genitori il suo primo nome doveva essere Aida ma per un errore dell'impiegato era stata iscritta all'anagrafe come Ida detta Iduzza dal padre calabrese di età aveva 37 anni compiuti e davvero non cercava di sembrare meno anziana il suo corpo piuttosto denutrito e in forme nella struttura dal petto sfiorito e dalla parte inferiore malamente ingrossata era era coperto alla meglio di un cappottino marrone da vecchia con un collettino di pelliccia assai consunto e una fodera grigiastra che mostrava gli orli stracciati fuori dalle maniche portava anche un cappello fissato con un paio di spilloncini da merceria e provvisto di un piccolo velo nero di antica vedovanza e oltre che dal velo il suo stato civile di signora era comprovato dalla fede nuziale d'acciaio al posto di quella d'oro già offerta alla patria per l'impresa abbessina sulla sua mano sinistra i suoi ricci crespi e nerissimi incominciavano a incanutire ma l'età aveva lasciato stranamente in colume la sua faccia attonda dalle labbra sporgenti che pareva la faccia di una bambina sciupatella e di fatti Ida era rimasta nel fondo una bambina perché la sua precipua relazione col mondo era sempre stata e rimaneva consapevole o no una soggezione spaurita I soli a non farle paura in realtà erano stati suo padre suo marito e più tardi forse i suoi scolaretti tutto il resto del mondo era un'insicurezza minatoria per lei che senza saperlo era fissa con la sua radice in chissà quale preistoria tribale e nei suoi grandi occhi a mandorla scuri c'era una dolcezza passiva di una barbarie profondissima e incurabile che somigliava ad una precognizione precognizione in vero non è la parola più adatta perché la conoscenza ne era esclusa piuttosto la stranezza di quegli occhi ricordava l'idiozia misteriosa degli animali i quali non con la mente ma con un senso dei loro corpi vulnerabili sanno il passato e il futuro di ogni destino chiamerei quel senso che in loro è comune e confuso negli altri sensi corporei il senso del sacro intendendosi da loro per sacro il potere universale che può mangiarli e annientarli per la loro colpa di essere nati Ida era nata nel 1903 sotto il segno del capricorno che inclina all'industria alle arti e alla profezia ma anche in certi casi alla follia e alla stoltezza d'intelligenza era mediocre ma forse fu una scolara docile e diligente nello studio e non ripetè mai una classe non aveva fratelli né sorelle e i suoi genitori insegnavano tutti e due nella stessa scuola elementare di Cosenza dove si erano incontrati per la prima volta il padre Giuseppe Ramundo era di famiglia contadina dell'estremo sud calabrese e la madre di nome Nora Almagia una padovana di famiglia piccolo borghese bottegaia era prodata a Cosenza ragazza di 30 anni e sola in seguita ad un concorso magistrale agli occhi di Giuseppe essa rappresentava nei modi nell'intelletto e nella forma qualcosa di superiore e di delicato Giuseppe di 8 anni più giovane della moglie era un uomo alto e corpulento con le mani rosse e tozze e la faccia grande colorita e piena di simpatia da bambino per disgrazia un colpo di zappa lo aveva ferita ad una caviglia lasciandolo leggermente storpiato per tutta la vita e la sua andatura zoppicante aumentava il senso di ingenuità fiduciosa che lui trasudava per natura appunto perché invalido a certi lavori della campagna la sua famiglia di poveri dipendenti si era arrangiata a farlo studiare mandandolo da principio a istruirsi dai preti con qualche soccorso del padrone terriero e la sua esperienza pretesca e padronale non aveva smorzato anzi aveva attizzato a quanto sembra un suo bollore riposto non saprei come né dove aveva scovato certi testi di Bakunin Malatesta e altri anarchici e su questi aveva fondato una sua fede ostinata però sprovveduta e obbligata a rimanere una sua propria eresia personale difatti professarla gli era negato perfino fra le mura di casa sua Nora Almaggia maritata a Ramundo come lascia capire il suo cognome di ragazza erebbe Rea anzi i suoi parenti vivevano tuttora da parecchie generazioni nel piccolo ghetto di Padova però lei non voleva farlo sapere a nessuno e se n'era confidata solo con lo sposo e con la figlia sotto pegno severissimo di segreto nei casi ufficiosi e pratici usava anche di camuffare il proprio cognome di ragazza convertendolo in inalmaggia persuasa con tale spostamento d'accento di fabbricarsi un'impunità in ogni modo a quei tempi in vero le occulte discendenze razziali non venivano ancora esplorate né sindacate quel povero almaggia o almaggia che fosse laggiù era passato per tutti io credo come un qualsiasi cognome veneziano innocuo e insignificante e oramai del resto la gente nemmeno se ne ricordava nota per tutti quanti era la signora ramundo ritenuto ovviamente della stessa religione cattolica di suo marito Nora non aveva qualità speciali né della mente né del corpo tuttavia senza essere bella era di certo graziosa dal suo zitellaggio prolungato le rimaneva un riservo casto e puritano perfino nell'intimità col marito manteneva certi pudori da ragazzetta che era tenuto in grande onore in quella regione del sud e la grazia veneziana delle sue maniere la faceva amare dalle sue alunne era di abitudini modeste e di carattere timido specie fra gli estranei però la sua natura introversa covava alcune vampe tormentose che si vedevano bruciare nel buio dei suoi occhi di zingara erano per esempio degli eccessi inconfessati di sentimentalismo giovanile ma erano soprattutto delle inquietudini sotterranee capaci di assediarla giorno e notte con vari pretesti che le diventavano addirittura delle fissazioni fino a che rodendole i nervi le si sfogavano fra le mura di casa in forme inconsulte e vessatorie l'oggetto naturale di questi suoi sfoghi era uno solo quello a lei più vicino ossia Giuseppe suo marito le succedeva di voltargli si contro peggio d'una strega rinfacciandogli la nascita il paese i parenti calunniandolo orrendamente con delle menzogne lampanti e perfino urlandogli segna da Dio tre passi indrio per via del suo piede zoppo d'un tratto poi si esauriva rimanendola svuotata come una pupazza di cenci e si metteva a balbettare che ho detto non volevo dire questo non era questo che volevo dire povera me oddio oddio con poca voce livida in faccia portandosi le mani alla testa ricciutelle dolorante allora Giuseppe impietosito si faceva consolarla e che fa dicendole non fa niente già è passato matuzza sei babbarella sei mentre lei se lo riguardava intontita con occhi parlanti di infinito amore di lì a poco essa rammentava queste sue scenate come un sogno spaventoso disdoppiamento non era lei ma una sorta di bestiaccia sanguisuga sua nemica che lei si aggrappava all'interno forzandola ad una recitazione pazza e incomprensibile le veniva voglia di morire ma per non far vedere il suo rimorso era capace di mantenere per il resto della giornata un mutismo acido e tetro quasi accusatorio un'altra sua caratteristica erano certe enfasi esagerate e solenni del suo linguaggio discese forse fino a lei dagli antichi patriarchi però fra queste sue voci bibliche si intromettevano le solite frasi e cadenze che aveva succhiate dal terreno veneziano le quali in quel mezzo producevano un effetto di canzoncina piuttosto buffo nei riguardi del suo segreto ebraico essa aveva spiegato alla figlia fino da piccolina che gli ebrei sono un popolo predestinato dall'eternità all'odio vendicativo di tutti gli altri popoli e che la persecuzione si accanirà sempre su di loro pure attraverso tregue apparenti riproducendosi sempre in eterno secondo il loro destino prescritto per tali motivi era stata lei stessa a volere iduzza battezzata cattolica come il padre il quale per il bene di iduzza aveva consentito benché recalcitrante piegandosi perfino durante la cerimonia per gli occhi del mondo a farsi in fretta e furia un gran segnaccio di croce però in privato in vero sul conto di Dio lui soleva citare il detto l'ipotesi Dio è inutile aggiungendoci in accento solenne la firma dell'autore faure come faceva di regola alle sue citazioni oltre al segreto principale di Nora in famiglia esistevano altri segreti e uno era che Giuseppe aveva il vizio di bere fu ch'io sappia l'unica colpa di quell'ateo senza malizia il quale nei suoi affetti fu così tenace che per tutta la vita come già da ragazzo seguitò a spedire una gran parte del suo stipendio ai genitori e ai fratelli più poveri di lui non fosse stato per le ragioni politiche l'istinto suo credo era di abbracciarsi col mondo intero ma più di tutti al mondo amava iduzza e noruzza per le quali era capace perfino di comporre madrigali a Nora da fidanzati diceva mia stella d'oriente e all'iduzza già voluta Aida cantava spesso sia lui che Nora erano stati assidui agli spettacoli del carrozzone lirico di passaggio celeste Aida forma divina delle sue bevute però croce di Nora lui non sapeva fare a meno anche se per obbligo al proprio posto di maestro rinunciava a frequentare le osterie dedicandosi al suo vino in casa la sera e specie il sabato e siccome era ancora un giovane sotto i 30 anni gli capitava in simili circostanze di sfogare spensierato i propri ideali clandestini il primo segnale della sua libertà di parola era una certa irrequietudine delle sue manone che si davano a smuovere o spostare il bicchiere mentre i suoi occhi castagno scuro si facevano cruciati e pensosi quindi principiava a dondolare il capo col dire tradimento tradimento intendendo che lui medesimo da quando si era messo al servizio dello stato si comportava da traditore dei suoi compagni e fratelli un insegnante se era onesto a quei poveri piccirilli della scuola avrebbe dovuto predicare l'anarchia il rifiuto globale della società costituita che li cresceva per farne carne da sfruttamento o da cannone a questo punto Nora preoccupata correva a chiudere le finestre le porte per soffocare agli orecchi dei vicini o dei passanti simili proposizioni eversivi e lui da parte sua levatosi in piedi nel centro della stanza si dava a citare con voce piena e crescente alzando il dito lo stato e l'autorità il dominio e la forza organizzata delle classi proprietarie e sedicenti illuminate sulle masse esso garantisce sempre ciò che trova agli uni la libertà fondata sulla proprietà agli altri la schiavitù conseguenza fatale della loro miseria bakunin anarchia al giorno d'oggi è l'attacco è la guerra ad ogni autorità ad ogni potere ad ogni stato nella società futura l'anarchia sarà la difesa l'impedimento opposto al ristabilimento di qualsiasi autorità di qualsiasi potere di qualsiasi stato caffiero qua Nora prendeva a scongiurare s s errando da un muro all'altro col fare d'uno sesso anche a porte e finestre chiuse era convinta che certe parole e certi nomi proferiti nella casa di due maestri di scuola scatenassero uno scandalo universale come se intorno alle loro stanzucce sbarrate ci fosse un'enorme folla di testimoni in ascolto in realtà per quanto atea non meno dello sposo essa viveva come soggetta ad un dio vendicativo e carcerario che la spiava le libertà non vengono date si prendono a che disgrazia ta se te digo tu vuoi precipitar questa casa nel baratro dell'ignominia e del disonor tu vuoi strascinar questa famiglia nel fango ma quale fango noruzza mia l'ufango sta sulle mani bianche del proprietario e del banchiere l'ufango è la putrida società anarchia non è fango anarchia è onore dello mondo nome santo vero suli della nostra storia rivoluzione immensa implacabile ah sia maledetto il giorno l'ora e il momento che m'hanno fatto vincere quel concorso sia maledetto quel destino infame che m'ha fatto cascare in mezzo a questi meridionali tutti briganti di strada infima genia della terra esseri indegni che si dovrebbero tutti picà impiccati civo Ulissi Nora impiccati gioia mia Giuseppe dallo stupore si ributtava giù a sedere ma lì mezzo stravaccato irresistibilmente gli tornava da cantare con gli occhi al soffitto come un carrettiere che canta alla luna dinamita le chiese e ai palaggi trucidiamo l'odiato borghese per non farci udire dal vicinato Nora badava a tenere bassa la voce ma a questo sforzo le si gonfiavano le vene come si strozzasse infine soffocate e stremata si abbatteva sul divanetto e allora Giuseppe premuroso andava lì a scusarsi baciandole come ad una nobile donna le piccole mani magre già invecchiate e screpolate dalle fatiche di casa e dai geloni e lei di lì a poco gli sorrideva consolata e medicata per il momento delle proprie angosce ancestrali dalla sua sediolina colorata comperata dal padre apposta sulla sua misura iduzza spalancando gli occhi seguiva questi alterchi logicamente senza capirne nulla lei certo da quando nacque non fu mai dindole atta alla sovversione però se allora avesse potuto dare un parere avrebbe detto che fra i due contendenti la più sovversiva era la madre a ogni modo tutto tutto quanto ne capiva era che i genitori si trovavano in disaccordo su certe questione né per fortuna si spaventava troppo alle loro scene tanto c'era abituata faceva tuttavia un piccolo sorriso di contentezza appena vedeva tornare fra loro la pace per lei quelle sere di sbornia erano pure delle sere di festa perché nel vino il padre dopo aver sventolato le sue bandiere di rivolta scioglieva in pieno il suo buon umore naturale e la sua cultura di contadino parente antico degli animali e delle piante le rifaceva le voci di tutti quanti gli animali dagli uccelluzzi ai leuni e a sua richiesta le ripeteva fino a dieci volte canzoni e fiabbe calabresi volgendole al comico quando erano tragiche perché lei come tutti i bambini rideva volentieri e le sue risate pazzerelle erano una musica in famiglia a un certo momento pure Nora vinta si univa a quel teatro producendosi con la sua voce ingenua e un po' costonata in un suo repertorio ristretto il quale in vero si riduceva ch'io sappia a due pezzi in tutto uno era la famosa romanza ideale io ti seguia come iride di pace lungo le vie del cielo eccetera eccetera e l'altra era una canzone in dialetto veneziano che diceva guardè che bel serenna con quante stele che bella notte da rubar putele chi ruba le putele noi xe ladri se i giama giovanini innamorati poi verso le dieci Nora finiva di rassettare in cucina e Giuseppe conduceva al letto i duzza accompagnandola come una madre con certe ninne e nanne di suono quasi orientale che sua madre e sua nonna avevano cantata a lui o veni su unnu di la montanella l'ulupu si mangia o la pecorella o ninni o ninna o la ninna voffa 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 ne so dove giuseppe l'avesse scovata dormite occhiuzzi dormite occhiuzzi che domani andiamo a reggio a comprare uno specchio d'oro tutto pittato di rose e fiori dormite manuzze dormite manuzze che domani andiamo a reggio a comprare un telarino con la navetta d'argento fino dormite pieduzzi dormite pieduzzi che domani andiamo a reggio a comprare le scarpe e telle per ballare a santi idarella iduzza perdeva ogni paura accanto a suo padre il quale per lei rappresentava una specie di carrozzella calda luminosa e zoppicante più inespugnabile d'un carro armato che la portava gaiamente a spasso al sicuro fra i terrori del mondo dovunque accompagnandola e mai permettendo che la si mandasse sola per le vie dove ogni uscio finestra o incontro estraneo la minacciavano d'offesa d'inverno forse per economia usava certi mantelli da pastore ampi e piuttosto lunghi e nelle giornate di maltempo la riparava dalla pioggia tenendosela vicino accostata sotto il proprio mantello io non conosco abbastanza la calabria e della cosenza di iduzza non posso che ritrarne una figura imprecisa attraverso le poche memorie dei morti credo che già fin da allora intorno alla città medievale che cinge la collida s'andassero estendendo le costruzioni moderne in una di queste infatti di un genere modesto e ordinario si trovava l'angusto appartamento dei maestri Ramundo so che la città è corsa da un fiume e il mare è di là dalla montagna l'avvento dell'era atomica che segnò l'inizio del secolo certo non si faceva sentire in quelle regioni e nemmeno lo sviluppo industriale delle grandi potenze se non per i racconti degli emigrati l'economia del paese si fondava sull'agricoltura in successivo decadimento per via del suolo impoverito le caste dominanti erano il clero e gli agrari e per le caste infime suppongo che lì come altrove il compagnatico quotidiano più diffuso fosse la cipolla mi risulta di sicuro a ogni modo che lo studente Giuseppe nel corso dei suoi studi superiori da maestro per anni non conobbe cibi caldi nutrendosi principalmente di pane e fichi secchi verso il quinto anno di età Iduzza fu soggetta per tutto un'estate agli insulti di un male innominato che angosciò i suoi genitori come una menomazione nel mezzo dei suoi giochi e delle sue chiacchiere infantili le capitava all'improvviso di ammutolire impallidendo con l'impressione che il mondo le si dissolvesse intorno in una vertigine alle domande dei suoi genitori dava a malapena in risposta un lamento di bestiola ma era evidente che già cessava di percepire le loro voci e di lì a poco si portava le mani al capo e alla gola in atto di difesa mentre la bocca le tremava in un mormorio incomprensibile quasi dialogasse spaventata con un'ombra il suo respiro si faceva alto e febbrile e qui d'impeto essa si buttava in terra torcendosi e squassandosi in un tumulto scomposto con gli occhi aperti ma vuoti in una totale cecità pareva che da una qualche sorgente sottoterra un brutale flusso elettrico investisse la sua piccola persona che al tempo stesso si rendeva invulnerabile non riportando mai né urti né ferite questo le durava un paio di minuti al massimo finché i suoi moti si attenuavano e diradavano e il corpo le si riadagiava in un riposo dolce composto i suoi occhi navigavano in un risveglio trasognato e le labbra si rilasciavano con dolcezza accostate senza aprirsi e un poco piegate in su agli angoli pareva che la creatura sorridesse di gratitudine per essere tornata a casa fra la doppia guardia dei suoi perenni angeli custodi che si piegavano ai suoi lati sopra di lei uno di qua col suo testone tondo e arruffato di cane pastore e l'altra di là con la sua testolina cresputa di capretta ma quel piccolo sorriso in realtà era solo una parvenza fisica illusoria prodotta dal naturale di stendersi dei muscoli dopo la tensione amara passava ancora qualche istante prima che Iduzza riconoscesse davvero la sua patria casalinga e in quel punto stesso del suo pauroso espatrio e ritorno già non le restava più nessuna notizia come di eventi esiliati dalla sua memoria essa poteva riferire soltanto di aver sofferto un grande capogiro e poi di aver avvertito come dei rumori d'acqua e dei passi e brusì confusi che sembravano arrivare dalla lontananza e nelle ore successive appariva affaticata ma più sciolta e spensierata del solito come se a sua propria insaputa si fosse liberata di un carico troppo al di sopra delle sue forze da parte sua pure in seguito essa riteneva di aver sofferto un comune svenimento senza rendersi conto dei fenomeni teatrali che lo avevano accompagnato e i genitori preferirono lasciarla in questa ignoranza però avvisandola di non dire a nessuno mai che andava soggetta a certi insulti per non compromettere il suo avvenire di ragazza così in famiglia si era aggiunto ancora un altro scandalo da tenere nascosto al mondo l'antica cultura popolare tuttora radicata nel territorio calabrese e specie fra i contadini segnava di uno stigma religioso certi mali indecifrabili attribuendone le crisi ricorrenti all'invasione di spiriti sacri oppure inferiori che in questo caso si potevano esorcizzare solo con recitazioni rituali nelle chiese lo spirito invasore che sceglieva più spesso le donne poteva trasmettere anche poteri insoliti come il dono di curare i mali o quello profetico ma l'invasione in fondo veniva avvertita come una prova immane e senza colpa la scelta inconsapevole di una creatura isolata che raccogliesse la tragedia collettiva naturalmente il maestro Ramundo con il suo avanzamento sociale era uscito dal cerchio magico della cultura contadina e in più secondo le sue idee filosofico politiche era positivista per lui certi fenomeni morbosi non potevano derivare che da disfunzioni o infermità del corpo e in proposito lo sgomentava il sospetto malcelato di avere lui stesso forse guastato ancora nel seme il sangue della figliolina col proprio abuso dell'alcolo per onora che non appena lo vedeva preoccupato si dava subito da fare per tranquillizzarlo gli diceva gli diceva rassicurante ma no non starti attormentare con certe idee balorde guarda i palmieri allora che han sempre bevuto tutti il pare il nono e il bisnono e i mascaro che ha i putei che danno il vin al posto del latte e dunque non lo vedi che scoppian tutti de salute gli anni precedenti nei mesi più caldi la famiglia soleva trasferirsi verso la punta della Calabria nella casa paterna di Giuseppe ma quell'estate non si mossero dal loro quartierino affocato di Cosenza per paura che Iduzza fosse sorpresa dal suo male segreto in campagna in presenza dei nonni e zii e cugini e forse la canicola cittadina alla quale Iduzza non era ancora abituata accelerò la frequenza dei suoi attacchi le vacanze in campagna poi da allora cessarono del tutto perché in seguito al terremoto di quell'inverno che distrusse Reggio e devastò le pianure i nonni si ritirarono presso un altro figlio in una casupola sulle montagne d'Aspromonte dove per il poco spazio non si poteva ospitare nessuno delle vacanze passate Iduzza ricordava soprattutto certe bambole di pane che la nonna le cuoceva nel forno e che lei cullava come fossero dei figli rifiutandosi disperatamente di mangiarle essa le voleva vicina a sé anche nel letto da dove le venivano sottratte furtivamente la notte mentre dormiva le restava pure nella memoria un grido altissimo ripetuto dai pescatori di pesce spada di sopra le rocce e che nel suo ricordo suonava così valeu verso la fine di quell'estate dopo un ultimo accesso di Iduzza Giuseppe si decise e caricata con sé la bambina su un somarello avuto in prestito la portò fino ad un ospedale fuori Cosenza dove esercitava un medico già suo compare il quale attualmente di casa risiedeva a Montalto ma aveva studiata al nord la scienza moderna sotto le dita del medico che la visitava Ida sebbene si vergognasse rideva per il solletico facendo il suono di chi scuote una capannuccia e quando finita la visita fu esortata a ringraziare il dottore arrossì tutta nel dire grazie e subito si nascose dietro suo padre il medico la dichiarò sana e avendo già saputo a parte da Giuseppe che in quei suoi attacchi essa non si feriva ne urlava ne si mordeva la lingua ne dava altri simili segni inquietanti assicurò che non c'era motivo di preoccuparsi per lei quei suoi attacchi spiegò erano quasi di certo dei fenomeni temporanei di isteria precoce i quali le sarebbero scomparsi spontaneamente con lo sviluppo frattanto per evitarli specie in vista della prossima riapertura delle scuole fino dai suoi primi anni Ida usava seguire alle lezioni sua madre che altrimenti non sapeva dove lasciarla le prescrisse un calmante da prendersi ogni mattina allo svegliarsi Ida e Giuseppe rifecero il viaggio di ritorno allegri e vispi cantando le solite canzoncine del repertorio paterno che Ida accompagnava ogni tanto con la sua vocetta stonata e da quel giorno i fatti nel loro corso successivo confermarono le previsioni del medico la semplice cura calmante seguita docilmente da Iduzza dimostrò la sua efficacia quotidiana senza nessun effetto negativo se non una lieve sonnolenza e ottundimento dei sensi che la bambina sormontava con la buona volontà e da allora dopo l'unica invasione di quell'estate lo strano male non tornò a visitarla più almeno nella sua cruda forma originaria succedeva a volte che in qualche modo si riaffacciasse però ridotto a quello che un tempo era stata appena il suo segnale primitivo una sorta di arresto vertiginoso delle sensazioni che si accusava sul viso della bambina con un velo di pallore simile ad una nebbia erano passaggi in vero così rapidi da sfuggire a tutti i presenti e alla stessa coscienza di Iduzza però a differenza dei malori tumultuosi di prima questi accenni impercettibili le lasciavano un'ombra di inquietudine triste quasi il sentimento oscuro di una trasgressione tali segni superstiti del suo male si andarono poi diradando e indebolendo col tempo la riassalirono con una frequenza notevole verso gli undici anni e in seguito attraversato il punto della pubertà sparirono quasi del tutto come aveva già promesso il dottore infine Ida poté sospendere l'uso della medicina calmante e tornare al suo umore naturale di ragazzetta forse fu anche l'interruzione della cura a provocare una simultanea trasformazione nella chimica del suo sonno di fatti è incominciata da allora la crescita rigogliosa dei suoi sogni notturni che doveva accoppiarsi alla sua vita diurna fra interruzioni e riprese fino alla fine attorcigliandosi alle sue giornate più da parassita o da sbirra che la compagna aveva mischiati coi sapori dell'infanzia quei primi sogni già le attaccavano la radice del dolore pure se in se stessi non si mostravano troppo dolorosi in uno che con diverse variazioni le tornava ad intervalli essa si vedeva correre in un luogo fosco di caligine o di fumo fabbrica o città o periferia stringendosi al petto una bambolina nuda e tutta di un colore vermiglio come fosse stata in tinta in una vernice rossa la guerra mondiale del 1915 risparmiò Giuseppe a motivo della sua gamba difettosa ma i pericoli del suo disfattismo svolazzavano come spauracchi dintorno a Nora cosicché pure Iduzza aveva imparato a temere certi argomenti del padre sia pure appena accennati in famiglia in tono basso di complotto difatti già dal tempo della guerra di Libia nella stessa città di Cosenza si contavano arresti e condanne di disfattisti pari a lui e rieccolo adesso che si levava alzando il dito il rifiuto di obbedienza diventerà sempre più frequente e allora non rimarrà che il ricordo della guerra e dell'esercito come attualmente si configurano e questi tempi sono vicini Tolstoi il popolo è sempre il mostro che ha bisogno della museruola che va curato con la colonizzazione e la guerra e ricacciato fuori del diritto Proudhon Iduzza da parte sua non usava nemmeno giudicare i decreti dei poteri pubblici i quali a lei si mostravano come enti arcani al di là della sua ragione e che però avevano la facoltà di portarle via suo padre con le guardie al primo accenno di certi discorsi che impaurivano sua madre essa si aggrappava a Giuseppe tremando e Giuseppe per non inquietarla si indusse ad evitare tali soggetti rischiosi anche in famiglia da allora in poi trascorreva le serate a ripassare le lezioni alla sua amata figlietta per quanto un poco sbronzo al solito il dopoguerra fu un'epoca di fame e di epidemia però come succede la guerra che per i più era stato un disastro totale per altri era stato un affare di successo finanziario e non per niente l'avevano favorita fu appunto adesso che costoro incominciarono ad assoldare le squadre nere a difesa dei propri interessi pericolanti nei paesi industriali questo pericolo veniva soprattutto dagli operai ma in Calabria come altrove nel sud i più minacciati nelle loro fortune erano i possidenti agrari i quali fra l'altro erano in gran parte usurpatori essendosi appropriati in passato con vari sistemi di terreni del demanio erano campi e foreste da loro spesso lasciati incolti e in abbandono e questo fu il periodo delle occupazioni di terre da parte di contadini e braccianti occupazioni illusorie perché dopo averli fertilizzati e coltivati gli occupanti a norma di legge ne venivano cacciati via parecchi ci restavano ammazzati e in quanto ai soggetti che lavoravano a uso dei proprietari la loro paga secondo gli ultimi patti di lavoro conquistati con lunghe battaglie sociali era per esempio questa per una giornata lavorativa di 16 ore tre quarti di litro d'olio alle donne la metà i parenti di Giuseppe giù in provincia di Reggio erano coloni che lavoravano pure a giornata come braccianti nell'agosto 1919 una sua sorella col marito e due nipoti morirono di febbre spagnola l'epidemia in certi paesi ha lasciato un ricordo pauroso mancavano i dottori i medicinali e il cibo si era nel pieno della canicola le morti superavano quelle della guerra e i cadaveri restavano vari giorni insepolti non bastando le tavole per le bare in questo periodo Giuseppe mandava alla parentela tutto il suo stipendio che nelle attuali difficoltà pubbliche non sempre gli veniva regolarmente pagato e nel carovita dell'epoca i tre dovevano arrangiarsi col solo guadagno di Nora però Nora che in certe contingenze familiari era brava come una leonessa e provvida come una formica riusciva a mantenere la famiglia senza troppe angustie meno meno di due anni dopo la fine della guerra puntualmente Ida prese il diploma magistrale e nel corso stesso di quelle vacanze estive benché sprovvista di dote si trovò fidanzata il fidanzato Alfio Mancuso era un messinese che aveva perduto tutti i parenti nel terremoto del 1908 lui stesso che aveva allora circa dieci anni se n'era salvato per un miracolo di fortuna e nonostante il suo affetto viscerale per la famiglia e specie per sua madre in seguito non tanto si lagnava per quella antica catastrofe quanto piuttosto si vantava della fortuna che in quell'occasione lo aveva assistito e che abitualmente lo distingueva il miracolo che nei resoconti di Alfio si arricchiva ogni volta di nuovi particolari e variazioni in breve era stato il seguente nell'inverno del 1908 il bambino Alfio lavorava da apprendista in un piccolo cantiere presso un vecchio che riparava le barche l'uno e l'altro solevano anche per notare nel cantiere stesso dove il mastro disponeva di una branda e il garzoncello si coricava invece in terra su un mucchio di trucioli avvolto in una vecchia gualdrappa di lana ora in quella serata mentre il vecchio secondo abitudine si attardava nei propri lavori in compagnia di qualche bicchiere l'apprendista da parte sua già si andava sistemando per la notte dentro alla gualdrappa quando a una distrazione fortuita il vecchio gli aveva strillato come usava sempre in casi consimili ehi rapababba che vorrebbe dire scemo come una rapa di solito l'apprendista si teneva un tale insulto senza rispondere ma stavolta ammattito gli aveva risposto babba sarete voi e subito con appresso estrema previdenza la sua gualdrappa era scappata all'esterno per paura del principale il quale di fatti gli era corso dietro pronto a picchiarlo e già armato di una fune piegata doppia ora sul terreno dove si svolgeva quella gara di corsa si presentavano piantati ad uguale distanza una palma e un palo dopo un attimo di esitazione fra i due si noti Alfio scelse la palma onde nell'attimo successivo già ne occupava la cima deciso a stabilirsi per sempre là come una scimmia piuttosto che consegnarsi al vecchio il quale infine stufo di aspettare sotto la palma rientrò nel cantiere in breve passarono le ore e le ore fin verso l'alba e Alfio inguadrappato dimorava tuttora su quella palma allora quando arrivò il terremoto che rase al suolo Messina e il cantiere e abbattè il palo mentre la palma dopo aver scosso in una grande folata il proprio ciuffo con Alfio mancuso abbarbicato dentro rimase salva in piedi fosse anche qualche virtù portentosa di quella gualdrappa già proprietà di un cavallaro di nome Cicciuzzo Belladonna a ogni modo fino da allora Alfio aveva stabilito di chiamare il primo figlio maschio Antonio di primo nome come già suo padre e Cicciuzzo ossia Francesco di secondo nome e la figlia femmina Maria come già sua madre di primo nome e di secondo nome Palma per lui fino da ragazzino farsi una famiglia era stata sempre l'aspirazione principale fra le altre sue fortune poi si contava la fine della guerra in coincidenza di date con la sua leva certe pratiche per il congedo militare lo avevano condotto a Roma dove aveva trovato un impiego di rappresentante presso una ditta e nel suo conseguente giro d'affari era passato da Cosenza dove incontrò il suo prima mora fra Alfio e il futuro suocero era nata subito grande amicizia e Ida si affezionò presto al suo pretendente che per vari tratti le tornava somiglianti a suo padre con la differenza che non si interessava di politica e non era un ubriacone tutti e due nell'aspetto e nei modi erano simili a grossi cani di campagna e pronti a far festa a qualsiasi favore della vita fosse anche solo un filo di vento nella canicola tutti e due possedevano qualità materne oltre che paterne assai meglio di Nora che sempre aveva impaurito un po' Iduzza col suo carattere orgoglioso nervoso e introverso tutte e due le facevano da guardiani contro le violenze esterne e con loro buon umore istintivo e il gusto ingenuo di pazziare sostituivano per lei poco socievole per natura la compagnia dei suoi coetanei e degli amici il matrimonio si celebrò in chiesa per il solito rispetto della gente e anche dello sposo il quale indifferente per suo conto alle religioni non doveva però nemmeno lui mai conoscere il segreto di Nora a causa della comune povertà la sposina invece del vestito bianco aveva un abito di lanetta turchino scuro con gonna appena ripresa sul busto e giacchetta avvitata aveva però le scarpine di pelle bianca una camicetta bianca dai risvolchi ricamati sotto la giacca e in testa un piccolo velo di tarlatana con coroncina di fiori d'arancio la borsetta regalo di Nora che ogni mese a qualsiasi costo metteva sempre da parte qualche lira per simili eventi eccezionali era di maglia d'argento in tutta la sua vita prima e dopo Iduzza non fu mai così elegante e tutta nuovo come quel giorno e ne risentiva un'enorme responsabilità preoccupandosi in chiesa e anche nel viaggio successivo in ferrovia di non macchiarsi le scarpette o sgualcirsi la soltana il viaggio di nozze salvo una sosta a Napoli di un paio d'ore consistè nell'andata a Roma nuova residenza degli sposi dove già Alfio da solo aveva preparato il loro alloggio economico di due stanze nel quartiere di San Lorenzo Iduzza era vergine non soltanto nel corpo ma anche nei pensieri non aveva mai veduto nessun adulto nudo perché i suoi genitori non si sfogliavano mai in presenza sua e perfino del proprio corpo sentiva un pudore estremo anche solo con se stessa Nora l'aveva avvertito soltanto che per generare bambini l'uomo deve entrare col suo corpo nel corpo della donna è un'operazione necessaria a cui bisogna sottomettersi docilmente e che non fa troppo male e Ida desiderava ardentemente ad avere un bambino la sera dopo l'arrivo a Roma mentre lo sposo si spogliava in camera Iduzza si spogliò nel salotto adiacente e all'entrare in camera timide e vergognosa nella sua camicia da notte nuova ruppegli per la prima volta in una risata irresistibile al vedere Alfio lui pure in una lunga camicia da notte che gli infagottava la figura virile e corpulenta fino ai piedi facendolo somigliare con la sua faccia ingenua e florida alle creature nella veste del battesimo lui si fece tutto rosso in faccia e balbettò incerto perché ridi la grande ilarità le impediva di parlare nel mentre stesso che lei pure si copriva di rossore finalmente riuscì a sillabbare per la camicia e sbottò a ridere un'altra volta il motivo della sua ilarità in vero non era l'aspetto comico e anche patetico di Alfio ma proprio l'idea della camicia suo padre infatti all'uso dei parenti contadini soleva coricarsi con i propri indumenti di sotto maglietta calzini e mutande lunghe essa non avrebbe mai pensato che i maschi si mettessero la camicia da notte convinta che un tale indumento come le sottane appartenesse alle donne o ai sacerdoti poco dopo spensero la luce e nel buio sotto le lenzuole lei sospese il fiato sbigottita al sentire lo sposo che le rialzava la lunga sua camicia fin oltre le cosce e cercava la sua carne denudata con un'altra carne umide e ardente per quanto se lo aspettasse le pareva terribile che uno da lei paragonati inconsciamente a suo padre Giuseppe le usasse uno strazio così atroce ma rimase quieta e lo lasciò fare vincendo il terrore che la minacciava tale era la sua fiducia in lui e così da allora ogni sera gli si lasciava dolce e disposta come un bambino selvatico che si lascia docilmente imboccare dalla madre poi col tempo si avvezzò a quel grande rito serale nutrimento necessario delle loro nozze e lui del resto nonostante la sua naturale febbre giovanile rispettava tanto sua moglie che non si videro mai nudi e si amarono sempre al buio Ida non comprendeva il godimento sessuale che le rimase per sempre un mistero talora provava solo una specie di commozione indulgente per lo sposo nel sentirselo sopra che affannava travolto e inferocito da quel mistero delirante e all'ultimo grido che lui levava altissimo come ad un'esecuzione invocata spietate e ineluttabile gli accarezzava impietosita i capelli ricci e folti ancora di ragazzo tutti madidi di sudore passarono tuttavia quattro anni dal matrimonio prima che il promesso bambino le arrivasse e fu in quel periodo che Alfio anche per non lasciarla troppo sola e disoccupata durante i propri giri di rappresentante la incoraggiò a concorrere per un posto di maestra a Roma lui stesso possedendo una certa semplice inclinazione agli intrallazzi la aiutò a vincere il concorso attraverso un suo conoscente del ministero che lei ricambiò con qualche favore commerciale e questo fu forse l'unico successo importante di Alfio di fatti per quanto scorrazzasse attraverso città e province partendo sempre col piglio avventuroso e ardito del celebre sartino pieno di valore della fiabba Alfio Mancuso fu sempre un affarista di poco conto povero e zingarello e così Ida iniziò la sua carriera di maestra che doveva concludersi dopo quasi 25 anni dove Alfio non riuscì a favorirla d'altra parte fu nella scelta di una sede comoda Ida trovò posti in una scuola non del suo quartiere San Lorenzo ma assai distante verso la Garbatella da dove poi col passare degli anni in seguita a demolizioni la sua scuola venne spostata al rione Testaccio per tutta la strada il cuore le sbatteva di spavento fra la folle stranea dei tram che la schiacciava e la spingeva in una lotta dove lei sempre cedeva e restava indietro ma alle entrate in classe già subito quel puzzo speciale di bambini sporchi di moccio e di pidocchi la racconsolava con la sua dolcezza fraterna inerme e riparata dalle violenze adulte prima dell'inizio di questa sua carriera un pomeriggio piovoso d'autunno Iduzza sposata appena da pochi mesi era stata scossa su al suo ultimo piano da un fragore di canti urla e sparatorie per le vie sottostanti del quartiere difatti erano le giornate della rivoluzione fascista e in quel giorno 30 ottobre 1922 si andava svolgendo la famosa marcia su Roma una delle colonne nere in marcia entrando in città per la porta di San Lorenzo aveva trovato un aperto ostilità in quel rione rosso e popolare e prontamente si era data alla vendetta devastando le abitazioni lungo la strada malmenando gli abitanti e ammazzando alcuni ribelli sul posto i morti di San Lorenzo furono tredici ma si trattò in vero di un episodio fortuito nel corso di quella facile marcia romana con la quale il fascismo segnava la sua presa ufficiale del potere a quell'ora Iduzza era solo in casa e come altre sue vicine corse a chiudere le finestre atterrita al pensiero di Alfio che si trovava in giro col suo campionario di vernici colori e lucidi da scarpe essa supponeva che fosse scoppiata la famosa rivoluzione universale sempre annunciata da suo padre però Alfio rincasò alla sera puntuale sano e salvo fortunatamente e Gaio secondo il solito e a cena accennando agli eventi con Iduzza le disse che certo i discorsi di Don Giuseppe suo padre erano giusti e santi ma nella pratica intanto fra scioperi incidenti e ritardi da ultimo lavorare sul serio era diventato un problema per gli uomini d'affari e di commercio come lui da oggi finalmente in Italia si era stabilito un governo forte che riporterebbe l'ordine e la pace fra il popolo più di questo non seppe dire lo sposo ragazzo sull'argomento e la sposa bambina vedendo lui placido e soddisfatto non si preoccupò di saperne di più i morti fucilati nel pomeriggio sulla strada erano già stati sotterrati in fretta nell'attiguo cimitero del verano di lì a due o tre anni con l'abolizione della libertà di stampa di opposizione e del diritto di sciopero l'istituzione dei tribunali speciali il ritorno della pena di morte eccetera eccetera il fascismo era diventato una dittatura definitiva nel 1925 Ida rimase incinta e partorì nel maggio del 26 il parto faticoso e rischioso la torturò ferocemente per tutto un giorno e una notte lasciandola quasi dissanguata però le uscì un bel maschiettino moretto e gagliardo del quale Alfio si vantava annunciando a tutti mi è nato un picciotto fuori classe del peso di 4 kg con una faccetta di salute che pare una mela annurca dopo questo primo figlio dal suo matrimonio non gliene nacquero altri come già inteso di primo nome gli avevano dato quello del nonno paterno Antonio ma fin da principio lo nominarono usualmente Nino o ancora più spesso Ninuzzo e Ninna Rieldu ogni estate Ida tornava per un poca cosenza col pupo al quale il nonno cantava le Ninna nanne a lei già note e in particolare quella domani andiamo a Reggio con la variante a comprare le scarpettuzze per ballare a Santo Ninuzzo le visite estive di Iduzza e Nina Rieggio restituivano a Giuseppe Ramundo quel suo brio di cane allegro che in lui pareva eterno e che invece negli ultimi anni sempre più si era avvilito la sua buona volontà gli aveva fatto sopportare con rassegnazione l'assenza di Iduzza che in fondo specie da principio gli pareva un furto ma questa sua crisi repressa si è raggiunto l'avvento della rivoluzione fascista che lo faceva invecchiare peggio d'una malattia vedere questa parodia cupa trionfare al posto dell'altra rivoluzione da lui sognata e che da ultimo pareva già quasi alle porte per lui era come masticare ogni giorno una poltiglia disgustosa che che gli voltava lo stomaco le terre occupate che ancora resistevano nel 1922 erano state ritolte ai contadini con brutalità definitiva e restituite ai possidenti soddisfatti e nelle squadre che rivendicavano i diritti di costoro c'erano ecco il peggio tanti figli di mamma poveri e zingarelli non meno degli altri e imbestialiti con la propaganda o con le paghe per aggredire dei poveri loro uguali a Giuseppe sembrava di recitare una commedia in sogno i personaggi a lui più odiosi della città ai quali in anni recenti la paura aveva fatto riabbassare un poco il capo adesso andavano in giro provocanti a pancia in fuori come sovrani reintegrati nel dominio ossequiati da tutti fra le mura tappezzate dei loro manifesti a scuola a casa e fra le conoscenze cittadine il maestro Ramundo tuttavia si forzava ad un conformismo di maniera anche per non peggiorare con troppe ansie la salute di Nora che si andava deteriorando però in compenso aveva presa a frequentare un piccolo ambiente appartato dove finalmente poteva dare qualche sfogo ai suoi pensieri era un'osteriola d'ultima classe fornita di tre o quattro tavoli e di una botte di vino rosso di stagione l'oste già conoscente di Giuseppe era un anarchico e divideva con Giuseppe dei ricordi di gioventù non ho potuto controllare l'ubicazione precisa di quell'osteria però qualcuno in passato mi accennava che per arrivarci bisognava prendere una tramvia suburbana se non fosse la cremaliera su per il fianco della montagna e io mi sono sempre immaginata che nel suo interno scuro e fresco all'odore del vino nuovo si mescolasse quello campestre dei bergamotti e del legname e forse anche l'odore del mare di là dalla catena costiera purtroppo finora io non conosco quei luoghi che sulla carta e forse l'osteria del nonno Ramundo adesso non esiste più i suoi pochi frequentatori a quanto ne so erano braccianti della campagna pastori erranti e ogni tanto qualche pescatore della costa essi conversavano nei loro dialetti antichi mischiati di suoni greci e arabi e nell'intimità con questi amici bevitori che lui pieno di commozione chiamava compagni defraudati o fratelli miei Giuseppe tornava alla sua allegria turbolenta e celebrava i suoi ideali fanciulleschi tanto più entusiasmanti perché adesso erano davvero dei segreti pericolosi finalmente poteva sfogarsi a declamare certi versi da lui stimati insuperabili e che mai gli fu dato di insegnare a scuola ai ragazzini e noi caderemmo in un fulgor di gloria schiudendo all'avvenire novella via dal sangue spunterà la nostra storia dell'anarchia noi siamo dei pari a le innumerevoli schiere le palli dei genti dannate a servir ma erette le fronti spiegan le bandiere muovendo al conquisto d'un eco avvenire ma il culmine di quelle riunioni era quando assicurandosi che nessuno di fuori poteva udirli i convenuti cantavano in un coro basso rivoluzione si farà bandiera nera si canterà per l'anarchia si trattava in vero di poveri anarchici della domenica e la loro attività sovversiva si fermava qui andò a finire tuttavia che a Cosenza arrivarono delle denunce l'oste un giorno fu spedita al confino l'osteria dovette chiudere e Giuseppe senza spiegazioni dirette anzi con certi pretesti di riguardo fu messa a riposo in età di 54 anni a casa con sua moglie lui fece mostra di credere a quei pretesti illudendola con le proprie ragioni come i bambini si illudono con le favole nemmai si intende venne a parlarle della sua osteria segreta né della sorte del suo compagno oste della quale si angustiava di continuo tanto più che addirittura almeno in parte se ne risentiva colpevole ma siccome in verità non aveva altri confidenti che Nora non poteva parlare di queste cose con nessuno nella sua disgrazia personale la sua peggiore amarezza non era il danno avuto e nemmeno l'inattività forzata per lui l'insegnamento era stato un piacere grande difatti questi disastri e magari anche la minaccia del confino e della galera gli venivano dai fascisti suoi naturali nemici ma che fra gli amici della sua piccola tavolata da lui chiamati fratelli potesse nascondersi una spia e un traditore fu questo sospetto più di tutto a gettarlo nella malinconia certe ore si distraeva col fabbricare dei giochi di legno da regalare al nipotino Ninuzzo quando verrebbe l'estate inoltre soprattutto tutto per confortare Nora aveva fatto acquisto di una radio cosicché alla sera potevano ascoltare assieme le opere delle quali erano entrambi appassionati fin dal tempo che andavano agli spettacoli del carrozzone la obbligava però addirittura con malagrazia a spegnere l'apparecchio non appena si udivano le voci dei notiziari che lo rendevano quasi furente da parte sua Nora nell'estremo logoramento dei suoi nervi si era fatta più che mai stizzosa e tormentosa e perfino persecutoria in certi suoi momenti esasperati arrivò addirittura a urlargli che lo avevano cacciato via dal posto per incapacità professionale ma a simili contumelle lui si conteneva di canzonarla per poi rivederla sorridere senza darci troppo peso spesso nella pietà di mirarla così logora e intristita le proponeva di andarsene insieme a ritrovare i parenti suoi giù in Aspromonte e annunciava questo progetto come un viaggio fantastico nel tono di un marito ricco che promettesse una grande crociera ma in realtà si era troppo infiacchito e non aveva più la forza fisica di partire da ultimo si era fatto di un colorito paonazzo d'una grossezza obesa e malsana non frequentava nessuna taverna e anche a casa evitava di bere eccessivamente per riguardo a Nora ma in qualche suo nascondiglio doveva ancora saziare la sua sete di alcol diventata morbosa capitava tutti i giorni a qualche cittadino di Cosenza di incontrarlo per le vie che andava zoppicando nel suo mantellaccio sempre solo con l'occhio dell'ubriaco e ogni tanto barcollava e s'appoggiava al muro fu ucciso da una cirrosi del fegato nel 1936 non molto dopo a Roma l'ancora giovane Alfio seguì il suo amico anziano nel destino della morte era partito per l'Etiopia assoggettata recentemente dall'Italia con certi suoi piani affaristici così grandiosi che contava di spandere le sue merci per tutto l'impero ma venti giorni dopo lo si vide ritornare a Roma ridotto irriconoscibile dalla magrezza per colpa di una nausea continua e lacerante che gli impediva di mangiare e gli dava la febbre si credette da principio a qualche morbo africano e invece agli esami risultò un cancro che forse già da tempo si andava sviluppando a sua insaputa dentro di lui per aggredirlo poi d'un tratto con virulenza precipitosa come usa a volte nei corpi giovani e robusti lui non venne informato della sua condanna gli fecero credere che era stato operato d'ulcera e che s'avviava verso la guarigione in realtà lo avevano aperto in un tentativo d'operarlo ma subito lo avevano richiuso perché non c'era niente da fare da ultimo s'era scheletrito e quando per poco s'alzava dal suo letto d'ospedale così lungo e magro pareva assai più giovane quasi adolescente una volta ida lo trovò che si inghiuzzava gridando no no non voglio morire con una violenza enorme incredibile in quel suo stato di debolezza sembra che una suora per prepararlo alla buona morte gli avesse lasciato intendere la verità ma non fu difficile ingannarlo di nuovo con bugie rassicuranti tale era il suo desiderio di vita un'altra volta si era verso la fine di fatti già gli somministravano l'ossigeno con la cannula mentre giaceva trasognato sotto l'effetto dei narcotici idalodì che andava dicendo come parlasse da solo mammuzza mia troppo stretta questa morte è come faccio io a passarci troppo grosso sono da ultimo una mattina parve un poco riprendersi e con una piccola voce musicale fra di nostalgie e di capriccio fece sapere che voleva essere seppellito a messina così i pochissimi soldi che lasciavi in eredità furono tutti spesi per esaudire quel suo ultimo desiderio la sua agonia era durata meno di due mesi e la morfina gliela addolci dalla sua spedizione africana aveva portato a Nino qualche campione di tallero e per trofeo una maschera etiope nera che Ida non aveva nemmeno volontà di guardare e che Nino si applicava in faccia per fare effetto sulle bande avversarie del rione cantando nell'assalto faccetta nera bella bissina maramba burumba bambuti mbu finché ne fece cambio con una pistola d'acqua Ida non usava mai pronunciare la parola cancro che a lei evocava una forma fantastica saccarale e innominabile come ai selvaggi le presenze di certi demoni al suo posto usava la definizione malattia del secolo imparata nel quartiere a chi le domandava di che fosse morto suo marito rispondeva della malattia del secolo con voce assottigliata e tremante non bastandole quel suo piccolo esorcismo a scacciare gli spaventi dalla sua memoria dopo la sparizione successiva di Giuseppe e di Alfio essa si trovava esposta definitivamente alla paura perché il suo era il caso di una rimasta sempre bambina senza più nessun padre tuttavia si impegnava con puntualità coscienziosa nei suoi compiti di insegnante e di madre di famiglia e l'unico segno della violenza che costavano a lei bambina certe pratiche quotidiane della maturità era un tremito impercettibile ma continuo delle sue mani che erano tozze e corte e mai lavate proprio come si deve l'invasione italiana dell'Abbissinia che promuoveva l'Italia da regno a impero era rimasta per la nostra maestrina in lutto un evento remoto quanto le guerre cartaginesi abissinia per lei significava un territorio sul quale Alfio se avesse avuto maggior fortuna avrebbe potuto a quel che sembra farsi ricco smerciando oli speciali vernici e perfino lucidi da scarpe anche se a lei risultava dalle sue letture di scuola che gli africani per via del clima vanno a piedi nudi nell'aula dove essa insegnava proprio al di sopra della sua cattedra in centro alla parete stavano appese vicino al crocifisso le fotografie ingrandite e incorniciate del fondatore dell'impero e del re imperatore il primo portava in testa un fez dalla ricca frangia ricadente con in fronte lo stemma dell'aquila e sotto un tale copricapo la sua faccia in un'esibizione perfino ingenua tanto era procace voleva ricalcare la maschera classica del condottiero ma in realtà con l'esagerata protusione del mento la tensione forzosa delle mandibole e il meccanismo dilatatorio delle orbite e delle pupille essa imitava piuttosto un buffo del varietà nella parte di un sergente o caporale che mette paura alle reclute e in quanto poi al re imperatore i suoi tratti insignificanti non esprimevano altro che la ristrettezza mentale di un borghese di provincia nato vecchio e con rendite accumulate però agli occhi di Iduzza le immagini dei due personaggi non meno si può dire del crocifisso che a lei significava soltanto il potere della chiesa rappresentavano esclusivamente il simbolo dell'autorità ossia dell'astrazione occulta che fa la legge e incute la soggezione in quei giorni secondo le direttive superiori essa vergava a grandi carattere sulla lavagna quale esercizio di scrittura per i suoi scolaretti di terza copiare tre volte sul quaderno di Bella le seguenti parole del Duce levate in alto o legionari le insegne il ferro e i cuori a salutare dopo quindici secoli la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma Mussolini da parte sua frattanto il recente fondatore dell'impero proprio con questo gran passo della sua carriera aveva in realtà messo il piede nella trappola che doveva consegnarlo all'ultimo scandalo del crollo e della morte proprio a questo passo lo aspettava di fatti l'altro fondatore del grande Reich suo complice presente e suo padrone predestinato fra i due sventurati falsari diversi per natura c'erano pure delle somiglianze inevitabili ma di queste la più interna e dolorosa era un punto di debolezza fondamentale l'uno e l'altro interiormente erano dei falliti e dei serbi e malati di un sentimento vendicativo di inferiorità è noto che un tale sentimento lavora dentro le sue vittime con la ferocia di un roditore incessante e spesso le ricompensa coi sogni Mussolini e Hitler al loro modo erano due sognatori ma qui si manifesta la loro diversità nativa la visione onirica del duce italiano rispondente ad una sua voglia materiale di vita era un festival da commedia dove fra labbari e trionfi lui vassalluccio d'intrallazzo recitava la parte di certi antichi vassalli beatificati i cesari gli augusti sopra una folla vivente umiliata al rango di fantoccio mentre invece l'altro impestato da un vizio monotono di necrofilia e lai di terrori era succube semi conscio di un sogno tuttora in forme dove ogni creatura vivente incluso lui stesso era oggetto distrazio e degradata fino alla putrefazione e dove all'ultimo nel gran finale tutte le popolazioni terrestri compresa quella germanica si facevano in ammassi scomposti di cadaveri si sa che la fabbrica dei sogni spesso interra le sue fondamenta fra i tritumi della veglia o del passato ma nel caso di Mussolini questo materiale era abbastanza scoperto nella sua superficialità mentre che nel caso di Hitler esso era un brulichio di infezioni agglutinato in chissà quali radici della sua memoria stravolta a frugare nella sua biografia di filisteuccio invidioso non sarebbe difficile di sotterrare in parte queste radici ma qui basta forse il fascista Mussolini non si rendeva conto di avere all'atto dell'impresa di Etiopia protetta da Hitler il nazista e seguita poi subito dall'altra impresa comune di Spagna ha giocato oramai per sempre il proprio carro carnevalesco al carro mortuario dell'altro uno dei primi effetti della sua servitù fu che di lì a poco alla targa nazionale e di suo proprio conio della romanità dovette sostituire quella estranea e di conio altrui della razza e fu così che sui primi mesi del 1938 anche in Italia attraverso i giornali nei circoli locali e alla radio ebbe inizio una campagna preparatoria contro gli ebrei Giuseppe Ramundo alla sua morte aveva 58 anni e Nora che ne aveva 66 era già entrata in pensione quando rimase vedova essa non visitava mai la tomba del marito impedita da una sorta di terrore sacro delle sepolture ma pure certo che il legame più tenace che la teneva fissa alla città di Cosenza era la vicinanza di lui che dimorava tuttavia là in quel camposanto essa non volle mai più lasciare la vecchia casa che era diventata la sua tana ne usciva quasi soltanto la mattina presto per farsi la spesa o i giorni che doveva ritirare la pensione o spedire il vaglia solito ai vecchissimi genitori di Giuseppe a loro come pure Aida scriveva delle lunghe lettere che i due vecchi essendo analfabeti dovevano farsi leggere da altri ma nelle sue lettere essa si guardava bene dall'accennare sia pure in modo indiretto e reticente ai propri incalzanti terrori per il futuro giacché oramai sospettava censure e spie da per tutto e in quei suoi messaggi frequenti e sterminati non faceva che ripetere in tutti i modi sempre il medesimo concetto ecco il destino come strano e contronatura avevo sposato un uomo più giovane di me di otto anni e secondo la legge naturale avrei dovuto io morire prima assistita da lui invece è toccata a me di assistere alla sua morte parlando di Giuseppe scriveva sempre lui con la maiuscola il suo stile era prolisso ripetitivo ma di una certa nobiltà magistrale e la calligrafia era allungata sottile addirittura elegante però verso l'ultimo declino le sue lettere diventarono sempre più brevi il suo stile si era fatto monco e sconnesso e i caratteri della scrittura tutti tremolanti e storti brancolavano sul foglio malcerti della direzione oltre a questa corrispondenza che la occupava come una grafomania i suoi soli passatempi erano la lettura di riviste illustrate o romanzi d'amore e l'ascolto della radio già da tempo gli indizi della persecuzione razziale in Germania l'avevano messi in allarme come un segnale preciso che confermava i suoi antichi presaggi ma quando verso la primavera del 1938 l'Italia intonò a sua volta il coro ufficiale della propaganda antisemita essa vide la mole fragorosa del destino avanzare verso la sua porta ingrossandosi di giorno in giorno i notiziari radiofonici con le loro voci roboanti e minatorie gli sembravano invadere fisicamente le sue stanzette spargendovi il panico ma tanto più lei si sentiva costretta per non trovarsi impreparata a seguire quei notiziari e passava le giornate e le sere allerta dietro agli orari dei radiogiornali come una piccola volpe sanguinante che si tiene rintanata e attenta fra la bagliare di una muta certi gerarchetti fascisti arrivati da Catanzaro diffusero un giorno la notizia ufficiosa di un prossimo censimento di tutti gli ebrei d'Italia con obbligo della denuncia personale e allora da quel momento Nora non accese più la radio nel terrore di ascoltare l'annuncio ufficiale dell'ordine governativo con i termini di tempo per la denuncia era il principio dell'estate già dall'inverno precedente Nora che adesso aveva 68 anni soffriva di un aggravamento dei suoi disturbi dovuti all'arterio sclerosi che la minava da tempo anche con la gente i suoi modi che prima sebbene schivi erano sempre mischiati di una dolcezza interna si erano fatti rabbiosi e aspri a chi la salutava non rispondeva più nemmeno a certe sue antiche scolarette ora cresciute e che finora le erano rimaste care certe notti la prendevano delle smanie per cui si lacerava la camicia con le unghie una notte le accadde pure di cadere dal letto nel sonno e si ritrovò distesa in terra con la testa dolente che le ronzava spesso le succedeva di rivoltarsi arcigne e furibonda alla minima occasione avvertendo degli sgarbi misteriosi anche in gesti o parole innocenti di tutti i possibili provvedimenti minacciati contro gli ebrei quello che più immediatamente la spaventava era l'obbligo previsto di denunciarsi per il censimento tutte le forme intraviste di persecuzioni prossime e future anche le più turpi e disastrose le si confondevano nella mente come spettri vacillanti fra i quali il faro terribile di quell'unico decreto la agghiacciava col suo bagliore al pensiero di dover dichiarare lei stessa pubblicamente il proprio segreto fatale sempre da lei nascosto come un'infamia senz'altro si disse è impossibile siccome non vedeva i giornali né più ascoltava la radio sospettava che il famoso decreto fosse ormai promulgato e già in atto mentre in realtà nessun decreto razziale era stato emanato ancora e anzi arrivò a persuadersi nel suo isolamento che i termini di tempo per la denuncia erano già scaduti si guardò tuttavia lo stesso dall'informarsi o tanto peggio dal presentarsi al comune a ogni nuovo giorno che sorgeva si ripeteva è impossibile trascorrendo poi la giornata in questo logorio fino all'orario di chiusura degli uffici pubblici per trovarsi di nuovo l'indomani con lo stesso problema fisso nella sua convinzione radicata di trovarsi già in ritardo e soggetta a chissà quali sanzioni ignote cominciò a paventare il calendario le date e la levata quotidiana del sole e mentre le giornate trascorrevano senza nessun indizio sospetto pure da allora lei visse ogni attimo nell'attesa di un qualche prossimo evento terribile si aspettava di venire chiamata agli uffici comunali a render conto della sua trasgressione e sbugiardata pubblicamente con l'accusa di falso oppure che un inviato del comune o della questura venisse a cercarla o addirittura ad essere arrestata non uscì più di casa nemmeno per la spesa giornaliera incaricandone la portinaia però una mattina quando la donna le si presentò all'uscio per le consegne essa la scacciò con urla bestiali scaraventandole addosso una tazza che aveva in mano ma la gente che non sospettava di nulla e l'aveva sempre rispettata la scusava per tali umori bisbetici attribuendoli al suo dolore per il marito incominciò a soffrire di sensazioni false il sangue montandole faticosamente al cervello batteva rombando nelle sue arterie indurite e lei credeva di udire dalla strada dei colpi violenti contro il portone o dei passi o fiati pesanti su per le scale di sera se accendeva d'improvviso la luce elettrica la sua vista indebolita le trasformava i mobili e le loro ombre in figure immote di delatori o sbirri armati venuti a sorprenderla per arrestarla e una notte che le avvenne per la seconda volta di cadere dal letto nel sonno si immaginò che a buttarla in terra fosse stato uno di coloro entrato di soppiatto e che tuttora si aggirava per la casa le veniva idea di lasciare cosenza di trasferirsi altrove ma dove e da chi a Padova dai suoi scarsi parenti ebrei non era possibile a Roma da sua figlia o dai suoceri nelle campagne di Reggio la sua presenza estranea sarebbe più che mai stata notata registrata registrata e comprometterebbe anche gli altri e poi come imporre l'intrusione di una vecchia nevrastenica e invasata a chi aveva già tante preoccupazioni e tormenti propri lei non aveva mai chiesto niente a nessuno era sempre stata indipendente fino da ragazza sempre aveva ricordato due versi uditi nel ghetto da un rabbino anziano infelice l'uomo che ha bisogno degli altri uomini beato l'uomo che ha bisogno solo di Dio partire allora per qualche altra città o paese anonimo in cui nessuno la conoscesse ma dovunque bisognava denunciarsi presentare documenti meditò di fuggire in una nazione straniera dove non esistessero leggi razziali ma lei non era mai stata all'estero non aveva passaporto e fornirsi di un passaporto voleva dire anche qui inchieste dell'anagrafe della polizia delle frontiere tutti luoghi e stanze che a lei si negavano minacciosi come ad un bandito essa non era povera come forse la credevano tutti in quegli anni appunto per garantirsi la propria indipendenza futura in caso di malattie o altri imprevisti aveva messo da parte a poco a poco secondo la sua usanza dei risparmi che presentemente ammontavano a 3000 lire questa somma in tre biglietti cucita dentro un fazzoletto essa la teneva la notte sotto al cuscino e il resto del tempo sempre addosso appuntata con degli spilli sotto una calza nella mente inesperta che già le si offuscava presumeva con tale somma di potersi pagare qualsiasi itinerario estero e magari esotico in certi momenti come una ragazzetta si metteva a fantasticare su talune metropoli che da zitella nei suoi sogni bovaristici aveva vagheggiato come traguardi sublimi Londra Parigi ma ad un tratto si ricordava che adesso era sola e come poteva orientarsi una donna vecchia e sola fra quelle folle cosmopolite e tumultuose ci fosse insieme a lei Giuseppe allora sì che viaggiare sarebbe ancora bello però Giuseppe non esisteva più era introvabile qua come in qualsiasi luogo forse anche il suo corpo così grande e grosso ormai si era già sciolto nella terra non c'era più nessuno sulla terra a rassicurarla nei suoi terrori come una volta faceva lui col dirle babba sei pazzarella sei per quanto lei seguitasse a farsi proposte diverse esaminando tutti i continenti e i paesi per lei nell'intero globo non c'era nessun posto eppure via via che passavano i giorni la necessità e l'urgenza della fuga si imponevano al suo cervello febbricitante nel corso degli ultimi mesi aveva udito parlare forse alla radio di emigrazioni ebraiche da tutta Europa in Palestina del sionismo non sapeva assolutamente nulla seppure ne conosceva la parola e della Palestina altro non sapeva se non che era la patria biblica degli ebrei e che la sua capitale era Gerusalemme ma pure venne a concludere che l'unico luogo dove poteva essere accolta come ebrea fuggita fra un popolo d'ebrei era la Palestina e mentre già s'avanzava la calura estiva una sera all'improvviso decise di fuggire in quel medesimo istante anche senza passaporto sarebbe passata di là dalle frontiere clandestinamente oppure si sarebbe nascosta nella stiva di un bastimento come avevo dito in certi racconti di emigranti illegali non portò con sé nessun bagaglio nemmeno il cambio della biancheria aveva già addosso come sempre le sue 3000 lire nascoste sotto una calza e all'ultimo momento sgorgendo ancora appeso all'attaccapanni dell'entrata uno di quei vecchi mantelli calabresi che Giuseppe usava negli inverni se lo portò via piegato sul braccio con l'idea di premunirsi se fosse andata verso climi freddi è certo che già delirava ma frattanto deve aver calcolato che andare da Cosenza a Gerusalemme per via di terra non conveniva giacché prese la direzione del mare scegliendo l'alternativa di imbarcarsi come unica soluzione qualcuno ricorda vagamente di averla vista nel suo vestituccio estivo di seta artificiale nera a disegni cilestrini sull'ultima cremagliera serale diretta al lido di Paola e difatti è là in quei dintorni che è stata ritrovata forse sarà andata girovagando per un pezzo lungo quella spiaggia senza porti in cerca di qualche mercantile di bandiera asiatica più spersa e sbandata ad un ragazzino di cinque anni che scappa ad arruolarsi come mozzo all'avventura a ogni modo per quanto una tale resistenza sembri incredibile nelle sue condizioni bisogna credere che dalla stazione di arrivo essa percorse un lungo camminapiedi difatti il punto preciso della spiaggia dove l'hanno ritrovata e a vari chilometri di distanza dal Lido di Paola in direzione di Fuscaldo lungo quel tratto della fascia costiera di là dalla ferrovia si stendono dei campi collinosi di Gran Turco che ai suoi occhi vaneggianti nel buio con la loro distesa ondulante potevano dare l'effetto d'una apertura marina era una bellissima notte e lune quieta e stellata forse a lei venne alla mente quell'unica e sola canzoncina delle sue parti che sapeva cantare che bella notte da rubar putele ma anche in quell'aria serena e tiepida ad un certo punto del suo percorso ebbe freddo e si coprì con quel mantello da uomo che portava con sé avendo cura di allacciarselo al collo con la fibbia era un vecchio mantellaccio di lana rustica marrone scuro che per giuseppe era stato di giusta lunghezza ma per lei era troppo lungo arrivandole fino ai piedi uno di quelle parti che l'avesse vista passare da lontano così ammantellata forse l'avrebbe presa per il monacheggio il piccolo brigante domestico travestito da frate che si dice vada peregrinando la notte e pratichi le case calandosi per dentro i camini però non risulta che qualcuno l'avesse incontrata né il fatto pare strano su quella costa isolata e pochissimo frequentata specie la notte i primi che la trovarono furono dei barcaiuoli che tornavano all'alba dalla pesca notturna e da principio la credettero una suicida portata a riva dalle correnti marine ma in vero la posizione dell'annegata e le condizioni del suo corpo non si accordavano con quella conclusione frettolosa essa giaceva dentro il limite della battigia ancora bagnato della marea recente in una posa rilasciata e naturale come chi viene sorpreso dalla morte in uno stato di incoscienso di sonno la testa le poggiava sulla sabbia che il lieve deflusso aveva lasciato liscia e nitida senza alghe né detriti e il resto della persona le stava adagiato per intero sul grande mantello da uomo che fermata al collo dalla fibbia si stendeva spalancato ai suoi lati tutto intriso d'acqua il vestituccio di seta artificiale madido e lisciato dall'acqua aderiva compostamente al suo corpo sottile che appariva in colume non gonfio né maltrattato come si mostrano di solito i corpi restituiti dalle correnti e i minuscoli garofani cilestrini stampati sulla seta risaltavano come nuovi ravvivati dall'acqua contro il fondo bruno del mantello l'unica violenza del mare era stata di toglierle via le scarpette e di scioglierle i capelli che nonostante l'età le rimanevano lunghi e abbondanti e soli in parte incanutiti così che adesso zuppi d'acqua parevano tornati neri e le si erano disposti tutti su un lato quasi con grazia il movimento della corrente non le aveva nemmeno spilato via dalla mano smagrita il cerchietto d'oro nuziale che spiccava col suo minimo chiarore prezioso alla luce avanzante del giorno era questo tutto l'oro da lei posseduto e lei diversamente dalla sua timida figlia Ida nonostante il suo conformismo patriottico non aveva voluto separarsene neppure quando il governo aveva invitato la popolazione a dare oro alla patria per aiutare l'impresa Bissina al polso le rimaneva non ancora macchiato dalla ruggine l'orologgetto di metallo ordinario fermo alle quattro l'esame del corpo confermò senza alcun dubbio la sua morte per annegamento ma essa non aveva lasciato nessun indizio o messaggio da Dio che dimostrasse un'intenzione suicida addosso le ritrovarono occultato nel posto abituale sotto la calza il suo tesoro segreto in biglietti di banca ancora riconoscibili benché ridotti dall'acqua a una poltiglia senza valore sapendo il carattere di Nora si può star certi che se avesse inteso darsi la morte essa avrebbe provveduto prima a mettere in salvo dalla distruzione dovunque fosse quel capitale per lei così ingente accumulato con tanta pertinacia inoltre se davvero cercando una fine volontaria lei si fosse lasciata alla grande massa del mare è da supporre che il carico del mantello appesantito dall'acqua l'avrebbe sospinta verso il fondo il caso fu archiviato sotto il titolo morte accidentale per annegamento e questa secondo me è la spiegazione più giusta io credo che la morte l'abbia sorpresa inconsapevole forse già caduta per uno di quei malori che l'accoglievano da qualche tempo su quei luoghi della costa e in quella stagione le maree sono leggere specie nei novi luni attraverso il suo viaggio inconcludente allucinata e quasi cieca nel buio della notte essa deve aver perso ogni direzione e anche l'avviso dei sensi e inavvertitamente si sarà troppo avanzata sulla striscia abbattuta dalla marea forse in una sua confusione fra l'oceano di Gran Turco e l'acqua senza vento o forse per qualche sua manovra delirante verso la sagoma fantomatica di una nave la è caduta e la marea già prossima al deflusso la ricoperta appena quanto bastava a farla morire però senza aggredirla né percuoterla e senz'altro rumore che il proprio succhio impercettibile nell'aria calma intanto il vantello pieno d'acqua seppellito agli orli sotto strati di sabbia frenava il suo corpo nella discesa umida trattenendo la morta sulla battigia fino alla prima ora del giorno conosco Nora solo da una sua fotografia del tempo che era finanzata sta in piedi contro lo sfondo di un paesaggio di carta nell'atto di spiegare un ventaglio che le copre il davanti della camicetta e la sua posa raccolta ma atteggiata accusa il suo carattere serio e tuttavia piuttosto sentimentale e minute snella con una gonna di lana quasi diritta ripresa e aderente sul busto e una camicetta di mussola bianca dai polsini stirati e abbottonata fino alla gola col braccio libero dal ventaglio si appoggia in un abbandono quasi da attrice su una mensoletta da fotografo borghese fine di secolo la sua pettinatura è tesa sulla fronte e rilasciata sopra la testa in una cerchia molle alla maniera delle gesce gli occhi sono di un fervore estremo sotto una velatura di malinconia e il resto del volto è di fattura delicata ma comune sul margine inferiore bianco e ingiallito della foto che è fatta di cartoncino spesso come allora si usavano oltre alle adorne indicazioni a stampa allora d'obbligo formato eccetera è ancora leggibile la dedica nella sua scritturina delicata diligente e sottile a te amato Giuseppe la tua Eleonora in basso a sinistra c'è la data 20 maggio 1902 e un poco più in basso a destra nella medesima scritturina segue il motto con te per sempre finché io viva e più in là capitolo terzo articolo 1 il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito articolo 8 agli effetti di legge a è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica di non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana di cui uno solo di razza ebraica che alla data del primo ottobre 1938 1838 16 apparteneva a religione diversa da quella ebraica articolo 9 l'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione articolo 19 ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 8 devono farne denuncia all'ufficio di stato civile del comune di residenza così diceva la legge raziale italiana emessa nell'autunno del 1938 con essa poi tutti i cittadini detti di razza ebraica venivano esclusi dalla gestione di aziende possedimenti proprietà frequentazione delle scuole di ogni grado e da tutti gli impieghi e professioni in generale a cominciare si capisce dall'insegnamento questi decreti portavano la data 17 novembre 1938 pochi giorni avanti in tutto il Reich dopo gli anni della discriminazione e della persecuzione si era dato inizio al progetto di genocidio degli ebrei contro di loro a tutti i tedeschi era stata data licenza di devastazione e di assassinio nel corso di varie notti molti ne furono massacrati a migliaia deportati nei lager le loro case magazzini e sinagoge bruciati e distrutti Nora con la sua morte aveva preceduto di alcuni mesi i decreti razziali italiani che a quest'ora la bollavano fra gli ebrei senza rimedio però la sua previdenza di 35 anni prima consigliandole di battezzare iduzza cattolica salvava adesso Costei dalla perdita del posto di maestra e dagli altri provvedimenti punitivi secondo il punto D dell'articolo 8 e in proposito l'articolo 19 decretava le pratiche d'obbligo per gli interessati fu così che iduzza vergognosa e tramortita come un'imputata al palazzo di giustizia si presentò agli uffici del comune di Roma se era debitamente provveduta di tutti i documenti richiesti sia quelli della sua parte ebraica materna che quelli della sua parte ariana paterna comprendenti gli attestati di battesimo suo proprio di Giuseppe e dei nonni di Calabria anch'essi ora sepolti non ci mancava proprio nulla e in più vergognandosi fino ad aprir bocca insieme con questo incartamento essa presentò all'impiegato un foglio di quaderno sul quale per un'identificazione immediata e muta aveva trascritto di sua mano i propri dati anagrafici personali ma una specie di ripugnanza che valeva quale un piccolo omaggio estremo le aveva fatto tralasciare ogni segno di accentuazione sul cognome della madre almaggia o almaggia si informò l'impiegato scrutandola con occhio inquisitorio autorevole e minaccioso essa avvampò peggio di una scolara sorpresa copiare il tema almaggia mormorò affrettatamente mia madre era ebrea l'impiegato non chiese altre informazioni e così per il momento la pratica era sistemata a ogni modo l'autorità nei suoi forzieri occulti da oggi teneva la conoscenza che Ida Ramundo vedova mancuso insegnante era una mezzosangue sebbene per tutti quanti ancora fosse una comune ariana in Italia ariana però dopo un certo tempo attraverso sue fonti private Ida imparò che nel Reich le leggi erano altre e incominciò a sospettare di giorno in giorno che una possibile modifica dei decreti nazionali intervenisse a coinvolgere non lei sola ma forse anche suo figlio Nino come già Alfio suo marito pure Ninuzzo aveva sempre ignorato né si immaginava manco in sogno di annoverare degli ebrei fra i propri parenti e cresceva spensierato ignaro di tutto e fanatico della camicia nera frattanto la lega Mussolini Hitler si faceva sempre più stretta finché nella seguente primavera del 1939 i due si allearono militarmente con il loro patto d'acciaio e senz'altro al modo che Benito aveva colonizzato gli etiopi Adolfo partì alla colonizzazione dei popoli europei sotto l'impero della razza tedesca suprema come aveva promesso allo scoppio tuttavia del conflitto mondiale seguito di lì a poco il socio italiano malgrado il patto preferì tenersi da parte ma al sicuro temporeggiando e solo di fronte alla vincita sensazionale del suo consocio che nel giro di una luna divorava l'Europa intera già toccava il traguardo di Parigi per garantirsi la propria porzione di gloria entrò in guerra al suo fianco era il mese di giugno del 1940 e Ninuzzo che allora aveva 14 anni accolse la notizia con piacere sebbene contrariato per il ritardo si era stufato di fatti da aspettare che il suo duce si decidesse a questa nuova azione pericolosa di tutta l'incalzante vicenda mondiale Iduzza non seguiva il corso se non per gli annunci di strepitose vittorie ittileriane che le riecheggiavano in casa attraverso la voce di Nino nei giorni delle entrate in guerra dell'Italia le capitò di ascoltare diverse opinioni sull'evento chiamata al pomeriggio dal preside del ginnasio per via di certe assenze ingiustificate di suo figlio Nino trovò il personaggio in uno stato raggiante d'euforia per la tempestiva decisione del duce noi siamo le dichiarò il personaggio con grande enfasi per la pace nella vittoria al minor costo possibile e oggi che la guerra lampo dell'asse sta per toccare la meta della pace applaudiamo alla lungimiranza del capo che assicura alla nostra patria i vantaggi del successo col massimo risparmio in una sola tappa e senza rimetterci nemmeno il consumo delle gomme eccoci già in volata finale giusto a ruota con la maglia gialla simile discorso autorevole si impose a Ida senza replica per quanto lei ne capiva anche i suoi colleghi della scuola elementare dei quali essa orecchiava i discorsi nei corridoi la pensavano più o meno come il preside del ginnasio solo una custode anziana chiamata dai bambini barbetta per una poca lanuggine senile che le cresceva sul mento era stata da lei sorpresa mentre a fini di scongiuro andava toccando le porte e via via borbottando in sordina che questa azione italiana contro i francesi era una pugnalata alle spalle e che certe azioni fortunate prima o poi portano sempre jella per contro la mattina stessa al suo ingresso nella scuola il portiere marciando per l'androne come un conquistatore l'aveva salutata con questa frase signora mancuso quando entriamo a parigi e d'altra parte più tardi rincasando aveva udito il garzone del panettiere che sulla soglia dell'osteria tutto aggrondato confidava all'oste a senso mio l'asse roma berlino è storto ambedi che roba quelli la quelli la i berlinesi fanno le carognate e noi qua de roma gli damo pure na mano fra tali opinioni discordi la povera iduzza per conto suo non usava formulare giudizi ai tanti misteri dell'autorità che la intimorivano si è raggiunta ad esso la parola Ariani che lei prima aveva sempre ignorato nel caso in realtà quella parola non aveva nessun significato logico e le autorità avrebbero potuto sostituirla al loro piacere e agli stessi effetti pubblici con pachidermi o ruminanti o altra qualsiasi parola ma alla mente di iduzza essa tanto più si faceva autorevole perché arcana nemmeno da sua madre essa non aveva udito mai questo titolo Ariani anzi lo stesso titolo di ebrei per la piccola iduzza laggiù nella casa di cosenza era rimasto un oggetto di grande mistero se non dalla stessa nora nei suoi concili segreti esso addirittura non veniva mai pronunciato in vano in casa ramundo ho saputo che una volta in una delle sue grandi perorazioni anarchiche Giuseppe uscì a proclamare con voce tonante verrà giorno che signori e proletari bianchi e neri femmine e maschi ebrei e cristiani saranno tutti uguali nell'unico onore dell'uomo ma su quella parola gridata ebrei nora dette una voce di spavento e impallidì come a un malore grave per cui Giuseppe tutto pentito le si fece vicina a ripetere stavolta a voce bassissima dicevo ebrei e cristiani quasi che col sussurrare la parola piano piano dopo averla strillata forte forte lui rimediasse al guaio a ogni modo adesso Ida imparava che gli ebrei erano diversi non solo perché ebrei ma anche perché non ariani e chi erano gli ariani a Iduzza questo termine delle autorità suggeriva qualcosa di antico e d'alto rango sul tipo di barone o conte e nel suo concetto gli ebrei vennero a contrapporsi agli ariani più o meno come i plebei ai patrizi essa aveva studiato la storia però evidentemente i non ariani per le autorità erano i plebei dei plebei per esempio il garzone del panettiere plebeo di classe di fronte ad un ebreo valeva un patrizio in quanto ariano e se già i plebei nell'ordine sociale erano una rogna i plebei dei plebei dovevano essere una lebra fu come se le ossessioni di Nora sciamando in tumulto alla sua morte fossero vedute a nidificare dentro la figlia dopo la sua denuncia all'anagrafe Ida aveva ripreso la stessa vita di prima campava proprio come un'ariana fra gli ariani nessuno pareva dubitare della sua arianità completa e le rare volte che dovette esibire i documenti per esempio alla cassa stipendi sebbene il cuore le ballasse in petto il cognome di sua madre passò del tutto inosservato il suo segreto razziale pareva sepolto una volta per tutte negli archivi dell'anagrafe però lei sapendolo registrato in quei loculi misteriosi tremava sempre che una qualche notizia ne trapelassi all'esterno segnando lei stessa manino soprattutto col marchio dei reprobi e degli impuri inoltre specie a scuola nell'esercitare lei mezza ebrea clandestina i diritti e le funzioni dovuti agli ariani si sentiva in colpa come un'abusiva e una falsaria anche nel giro delle sue spese quotidiane essa aveva il sentimento di andare mendicando come un cucciolo orfano e randaggio nel territorio altrui finché da un giorno all'altro lei che prima delle leggi razziali non aveva incontrato mai nessun ebreo fuori di Nora seguendo una sua pista incongrua si orientò a preferenza nella cerchia del ghetto romano verso le bancarelle e le botteghe di certi ebereucci ai quali ancora a quel tempo era permesso di seguitare nei loro poveri traffici di prima da principio la sua timidezza la portò a trattare solo con certi tipi di vecchi dagli occhi mezzi spenti e dalla bocca sigillata però il caso via via le procurò qualche conoscenza meno taciturna in genere qualche donna del posto che forse incoraggiata dai suoi occhi semiti chiacchierava con lei di passaggio di qui essa ricavava il suo principale notiziario storico politico giacché con gli ariani evitava certi argomenti e anche dei comuni mezzi di informazione per un motivo o per l'altro se ne serviva poco l'apparecchio radio di famiglia già posseduto quando Alfio era in vita da più di un anno aveva smesso di funzionare tanto che Nina Rieggio un bel giorno lo aveva sfasciato definitivamente smontando nei pezzi a uso di svariate costruzioni sue proprie né essa aveva i soldi per comprarne un altro e in quanto ai giornali essa non usava leggerne e a casa sua capitavano solo le gazzette sportive o i rotocalchi cinematografici per uso esclusivo di Nino da sempre i giornali a lei suscitavano solo nel vederli un senso innato di straniamento e di avversione e da ultimo essa addirittura sbigottiva già a scorgerne appena i titoli in prima pagina così grossi e neri di passaggio all'edicole o sul tram ogni giorno le succedeva di occhieggiarli diffidando se per caso non denunciassero a caratteri cubitali fra i molti abusi degli ebrei pure i suoi nomi col famigerato cognome al Maggià non troppo distante dalla sua scuola il ghetto era un piccolo quartiere antico segregato fino al secolo scorso con alte muraglie e cancelli che venivano chiusi alla sera e soggetto di quei tempi alle febbri per via dei vapori e della melma del tevere vicino che ancora non aveva argini da quando il vecchio quartiere era stato risanato e le muraglie abbattute il suo popolo non aveva fatto che moltiplicarsi e adesso in quelle solite quattro straducce e due piazzette ci si arrangiavano a stare a migliaia c'erano molte centinaia di pupetti e ragazzini per lo più ricetti con gli occhi vispi e ancora al principio della guerra avanti che incominciasse la grande fame ci giravano diversi gatti domiciliati fra le rovine del teatro di Marcello ad un passo di là gli abitanti per la maggior parte facevano i venditori ambulanti o gli straccioli che erano i soli mestieri permessi dalla legge agli ebrei nei passati secoli e che poi fra poco nel corso della guerra gli sarebbero stati proibiti anche questi dalle nuove leggi fasciste pochi di loro disponevano al massimo di qualche locale a pian terreno per uso di rivendita o deposito della roba e queste più o meno erano tutte le risorse del piccolo villaggio dove i decreti razziali del 1938 tuttora invariati non avevano potuto mutare di molto le sorti in certe famiglie del quartiere si aveva appena notizia di quei decreti come di questioni riguardanti i pochi ebrei signori che abitavano sparsi nei quartieri borghesi della città e in quanto a varie altre minacce che circolavano oscure i notiziari che Ida ne raccattava laggiù erano monchi e confusi come le radiocarcere in generale tra le sue conoscenti delle bottegucce regnava un'incredulità ingenua e fiduciosa ai suoi piccoli accenni peritosi da ariana quelle povere donnette indaffarate opponevano per lo più una spensieratezza evasiva oppure una rassegnazione reticente tante notizie erano invenzioni della propaganda e poi in Italia certe cose non potrebbero mai succedere esse confidavano nelle amicizie importanti o anche nelle benemerenze fasciste dei capi della comunità o del rabbino nella benevolenza di Mussolini verso gli ebrei e addirittura nella protezione del Papa mentre i papi in realtà nel corso dei secoli erano stati fra i loro peggio persecutori a chi fra loro si mostrava più scettico esse non volevano credere ma in vero nel loro stato non avevano altra difesa fra costoro ci si incontrava ogni tanto una ragazza invecchiata di nome Vilma trattata là in giro per una mentecatta i muscoli del suo corpo e del suo volto erano sempre inquieti e lo sguardo invece è statico troppo luminoso era era rimasta orfana assai presto e per incapacità d'altro si adattava a servizi pesanti come un facchino scavallava tutto il giorno infaticabile in Trastevere e Campo dei Fiori dove andava pure mendicando avanzi non per sé ma per i gatti del teatro Marcello forse la sola festa della sua vita era quando verso sera si sedeva là su un rudere in mezzo ai gatti a spargere in terra per loro delle testine di pesce mezze marce e dei rimasugli sanguinolenti allora il suo volto sempre febbrile si faceva radioso e calmo come in paradiso però col progredire della guerra questi suoi beati convegni dovevano ridursi a un ricordo da qualche tempo Vilma attraverso i suoi giri quotidiani di faticante riportava nel ghetto delle informazioni strane e inaudite che le altre donne rifiutavano come fantasie del suo cervello e di fatti la fantasia lavorava sempre come una forzata nella mente di Vilma però in seguito certe sue fantasie dovevano dimostrarsi molto al di sotto della verità lei pretendeva che a tenerla così informata fosse una monaca andava a faticare fra l'altro in un convento oppure una signora che di nascosto ascoltava certe radio proibite ma delle quali non si doveva dire il nome a ogni modo si affannava a garantire che le sue informazioni erano certe e tutti i giorni le ripeteva in giro con voce rauca urgente come si raccomandasse ma nell'accorgersi che non la si ascoltava o non le si credeva rompeva in risate angosciose simili a tosse convulsa la sola forse che la stava a sentire con terribile serietà e riduzza perché ai suoi occhi Vilma nell'aspetto e nelle maniere rassomigliava a una sorta di profetessa attualmente nei suoi messaggi ossessivi quanto inutili Costei di continuo insisteva con l'avviso di mettere in salvo almeno le creature affermando di aver saputo in confidenza dalla sua monaca che nella storia prossima era segnata una nuova strage peggio di quella di Erode non appena occupavano un paese per prima cosa i tedeschi ammassavano da una parte tutti gli ebrei senza eccezione e di là li trascinavano via fuori dei confini non si sapeva dove nella notte e nella nebbia i più morivano in cammino o cadevano prostrati e tutti costoro morti e vivi venivano buttati uno sull'altro in fosse enormi che i loro parenti o compagni erano costretti a scavare in loro presenza i soli lasciati sopravvivere erano gli adulti più robusti condannati a lavorare come schiavi per la guerra e i bambini venivano massacrati tutti dal primo all'ultimo e buttati nelle fosse comuni lungo la strada un giorno a questi discorsi di Vilma ci si trovava oltre a Iduzza pure una donnetta anziana dimessa nel vestito ma col cappellino in testa essa a differenza della bottegaia assentì con gravità alle lamentazioni insane e roche di Vilma anzi parlando a bassa voce per paura delle spie intervenne affermando di avere udito lei stessa da un sotto ufficiale dei carabinieri che secondo la legge dei tedeschi gli ebrei erano pidocchi e andavano tutti sterminati alla vittoria certa e ormai vicina dell'asse pure l'Italia sarebbe diventata territorio del Reich e soggetta alla medesima legge definitiva su San Pietro al posto della croce cristiana avrebbero messo la croce uncinata eppure gli stessi cristiani battezzati per non venire scritti nella lista nera dovevano provare i loro sangui ariani fino alla quarta generazione e non per niente aggiunse tutta la gioventù ebrea di buona famiglia che aveva i mezzi sere migrata dall'Europa chi in America e chi in Australia finché s'era stati in tempo ma oramai coi mezzi o senza mezzi tutte le frontiere erano chiuse non sarà più in tempo chi sta dentro sta dentro chi sta fora sta fora a questo punto con la sua voce malsicura dilatitante che teme di fornire indizi Iduzza si fece a chiederle che cosa esattamente significasse fino alla quarta generazione e la donnetta con un sussiego da scienziata matematica e non senza precisare ribadire dove le pareva il caso spiegò che nella legge germanica i sangui si calcolavano a capi quote e dozzine quarta generazione sta per dire i bisnonni e per calcolare i capi basta contare i bisnonni e i nonni che in totale fanno 8 bisnonni più 4 nonni uguale 12 capi ossia una dozzina ora in questa dozzina di capi ogni capo se è ariano vale per una quota ariana un punto a favore se invece giudio vale per una quota giudia un punto contro e nel calcolo finale il risultato deve essere come minimo due terzi più uno un terzo di dozzina è uguale a quattro due terzi è uguale a otto più uno uguale nove chi va a giudizio deve presentare come minimo nove quote ariane se ne ha di meno fosse anche per una mezza quota risulta di sangue giudio a casa da sola Ida si internò in un calcolo complicato per se stessa in vero la soluzione era semplice di padre ariano e di madre ebrea pura da lontana generazioni lei non possedeva che sei quote su dodici e dunque risultato negativo ma il caso per lei principale cioè Nino le riusciva più astruso e qua il conto nel farlo e rifarlo le si imbrogliava nel cervello si indusse allora a tracciare per iscritto su un foglio un albero genealogico di Nino dove una E distingueva i nonni e bisavi ebrei e una A gli ariani un segno X sostituiva i nomi che qui al momento le sfuggivano dalla memoria e il conto qui le risultò propizio Nino sia pure di minimo rientrava nel punteggio dovuto nove quote su dodici capi ariano questo risultato però non poteva bastare a darle pace neanche sul conto del figlio troppo variabili e oscure le rimanevano nel futuro e nello stesso presente i termini reali della legge essa ricordò per esempio di aver udito in Calabria da un emigrante americano che il sangue scuro vince sempre sul sangue pallido basta una goccia di sangue nero in un cristiano per riconoscergli che non è bianco ma è negro incrociato capitolo quarto è così alla fine è chiaro perché la disgraziata in un giorno del gennaio 1941 accogliesse l'incontro di quel soldatuccio a San Lorenzo come la visione di un incubo le paure che la stringevano d'assedio non le lasciavano scorgere in colui nient'altro che un uniforme militare tedesca e allo scontrarsi proprio sul portone di casa sua in quella uniforme che pareva postata là in sua attesa lei credette di trovarsi oggi all'appuntamento terribile che le era predestinato fino dal principio del mondo colui doveva essere un emissario dei comitati razziali forse un caporale o un capitano dell'SS venuto ad identificarla per lei esso non aveva nessuna fisionomia propria era una copia delle migliaia di figure conformi che moltiplicavano all'infinito l'unica figura incomprensibile della sua persecuzione il soldato risentì come un'ingiustizia quel ribrezzo evidente e straordinario della sconosciuta signora non era abituata a suscitare ribrezzo nelle donne e d'altra parte sapeva a dispetto delle sue piccole delusioni precedenti di trovarsi in un paese alleato non nemico però mortificato invece di desistere si accanì quando il gatto di casa per un suo assurdo malumore si acquatta nei propri nascondigli i ragazzini si accaniscano a dargli la caccia essa del resto non fece nemmeno l'atto di scansarsi l'unico suo movimento fu di nascondere dentro una delle sporte quali documenti minacciosi della propria colpa dei quaderni di scuola che aveva nelle mani più che vedere lui essa sdoppiandosi vedeva davanti a lui se stessa come ormai denudata di ogni travestimento fino al suo cuore geloso di mezza ebrea se avesse potuto vederlo in vero si sarebbe forse accorta che lui davanti a lei stava nell'atteggiamento di un mendicante piuttosto che di uno sgherro con l'aria di recitare apposta per impietosirla la parte del pellegrino aveva posato su una palma la guancia reclinata e in una preghiera ilare benché proterva nella sua voce di basso già timbrata ma fresca e nuova con dentro ancora qualche acidezza della crescita ripietè due volte sclafen sclafen a lei che ignorava del tutto la lingua germanica l'incomprensibile parole con la sua mimica misteriosa suonò per una qualche formula gergale di inchiesta o di imputazione e tentò in italiano una risposta indistinta che si ridusse ad una smorfia quasi di lagrime ma per il soldato grazie al vino la babele terrestre s'era trasformata tutta in un circo risolutamente in uno slancio da bandito cavalleresco le prese dalle mani i fagotti e le sporte e in un volo da trapezista la precedette senz'altro su per la scala a ogni pianerottolo si arrestava per aspettarla uguale ad un figlio che rincasando insieme fa da staffetta impaziente alla madre tarda e lei lo seguiva inciampando ad ogni passo come un ladroncello che si trascina dietro ai portatori della sua croce il suo peggior affanno in quella salita era il sospetto che Nino proprio oggi per un caso raro si trovasse a casa di dopo pranzo per la prima volta da quando era madre si augurava che il suo piccolo teppista stradaiuolo le restasse in giro tutto il giorno e tutta la notte e si giurava disperatamente se il tedesco le avesse domandato di suo figlio di negarne non solo la presenza ma l'esistenza perfino al sesto pianerottolo erano arrivati e siccome lei coperta ad un sudore ghiacciato si perdeva nel manovrare la serratura il tedesco posò in terra le sporte e prestamente le venne in aiuto con l'aria di uno che rientra in casa propria per la prima volta da quando era madre essa provò sollievo al trovare che Ninna Riedru non era in casa l'interno consisteva in tutto di due camere gesso e cucina e presentava oltre al disordine la doppia desolazione della povertà e del genere piccolo borghese ma sul giovane soldato l'effetto subitaneo di quell'ambiente fu di rimpianto selvaggio e di malinconia per causa di certe minime affinità con la sua casa materna in Baviera la sua voglia di giocare dileguò come il fumo di un bengala e la sbronza non ancora consumata gli diventò l'amarezza di una febbre in corpo caduto in un mutismo totale incominciò a marciare fra i molti ingombri della stanza con la grinta di un lupo sperso e digiuno che cerca in un cove straneo qualche materia da sfamarsi agli occhi di Ida ciò corrispondeva esattamente al suo compito poliziesco preparandosi a una perquisizione generale essa ripensava al foglio con l'albero genealogico di Nino da lei riposto in un cassetto fra altri documenti importanti e si domandava se forse quei segni enigmatici non sarebbero indicazioni lampanti per colui egli arrestò la sua marcia davanti ad un ingrandimento fotografico che campeggiava al posto d'onore sulla parete incorniciato come un quadro d'autore di grande importanza ritraeva a grandezza circa metà del naturale un bulletto sui 15 16 anni avvolti in un sontuoso cappotto di lana di cammello che lui portava come fosse una bandiera fra le dita della sua destra si riusciva a scorgere vagamente il bianco di una sigaretta e il suo piede sinistro poggiava sul parafango di una spider fuori serie lasciata per caso la in sosta da qualche proprietario ignoto col gesto padronale che usano nelle grandi foreste i cacciatori di tigri sullo sfondo si intravedevano i casamenti di una via cittadina con le loro insegne ma per l'ingrandimento eccessivo operato su quello che era stato all'origine il volgare prodotto di un fotografo ambulante l'intera scena risultava piuttosto pallida e sfocata il militare scrutato il quadro nel suo insieme lo collegò di sua propria supposizione col culto familiare dei defunti e puntando il dito sul soggetto fotografato domandò a Ida con la serietà di un' indagine tot morto la domanda naturalmente a lei suonò incomprensibile però l'unica difesa che oggi il terrore le consigliava era di rispondere sempre no a qualsiasi inchiesta come gli analfabeti nelle istruttorie e non sapeva di fornire così stavolta contro ogni intenzione un'informazione al nemico no no rispose con la cucina di una bambola gli occhi sbalorditi e feroci e di fatto secondo verità quella non era il ricordo di un morto ma una foto recente di suo figlio Ninuzzo che lui stesso aveva fatto ingrandire e incorniciare di propria iniziativa anzi lei tuttora fraliti a mare andava pagando le rate di quel cappotto di cammello che Nino fin dall'autunno si era ordinata abusivamente del resto poi la casa medesima denunciava senza rimedio e a voce altissima quell'inquilino latitante che lei protendeva di occultare la stanza che dall'ingresso il tedesco aveva invaso risolutamente era una sorta di salottino studio che poi di notte serviva anche per dormirci come si capiva da un divanetto ancora disfatto e in realtà composto in modo sommario di una rete senza gambe e di un materasso malaldato intorno a questo divano letto somigliando ad una cuccia col guanciale sporco e unto di brillantina messo per traverso e lenzuole coperte tutte arruffate in disordine giacevano scaraventati in terra dalla sera prima una sopra coperta di seta artificiale e certi cuscini duri che di giorno servivano a travestire il letto fra mezzo ai quali poi si ritrovavano un giornaletto sportivo una giacchetta di pigiama celeste di misura ancora abbastanza piccola e un calzettino di media misura bucate e sporco di un vivace disegno scozzese sulla parete del letto nel posto delle immagini sacre erano fissate con puntine diverse fotografie ritagliate dalle riviste di dive del cinema in costume da bagno o in abito da sera delle quali le più formidabili erano contrassegnate con grandi freggi a matita rossa così perentori da parere degli spilli da frembaggio o delle proteste di gatto uscito a battere sulla medesima parete ma di lato e fissata anch'essa con puntine c'era pure una copia di manifesto raffigurante un'aquila romana che stringeva le isole britanniche fra gli artigli su una sedia c'era un pallone da football e sul tavolino fra quinterni di libri scolastici maltrattati e mortificati orrendamente da sembrare rimasugli dei topi si ammucchiavano altri giornaletti sportivi rotocalchi e fumetti d'avventura un romanzo del brivido recante in copertina una signora seminuda urlante e minacciata da una manona scimmiesca e un albumo con figure di pelle rosse inoltre un fez d'avanguardista un fonografo a manovella con qualche disco alla rinfusa e un meccanismo di struttura complicata e imprecisa in cui si riconoscevano fra l'altro i pezzi di un motorino a fianco del divano su una sgangherata poltrona addossata al muro al di sotto di una veduta stampa con la scritta Grand Hotel De Lille Borromé c'erano ammucchiati alcuni pezzi o rottami di veicoli fra i quali spiccavano un pneumatico sgonfio un contachilometri e un manubrio sul bracciolo della poltrona era posata una maglietta coi colori di una squadra e sull'angolo del muro appoggiato in piedi c'era un moschetto autentico fra un tale campionario parlante i fantastici movimenti del soldato si convertivano per Ida nei movimenti esatti di una macchina fatale che stampava anche Nino oltre a lei stessa nella lista nera degli ebrei e dei loro ibridi i suoi propri equivoci andavano acquistando col passare dei minuti un potere allucinante su di lei riducendola al terrore nativo e ingenuo di prima della ragione ferma in piedi con ancora addosso il cappotto e in testa il suo cappellino al lutto essa non era più una signora di San Lorenzo ma un disperato migratore asiatico di piume marrone e di cappuccio nero travolto nel suo cespuglio provvisorio da un orrendo diluvio occidentale e nel frattempo i ragionamenti sbronzi del tedesco non concernevano nelle razze nelle religioni nelle nazioni ma soltanto le età era matto di invidia e dentro di sé discuteva tartagliando mannaggia la fortuna è di quelli che non hanno ancora l'età di leva e possono godersi a casa le loro proprietà con le madri e il pallone e scopare e tutto quanto tutto quanto come se la guerra fosse nella luna e non nel mondo marte la disgrazia e crescere la disgrazia e crescere ma dove sto perché sto qua io come mi ci son trovato a questo punto rammentandosi che non aveva ancora fatto le proprie presentazioni alla sua ospite con decisione andò a piantarsi di fronte a lei e senza nemmeno guardarla con bocca imbronciata le dichiarò my name is winter quindi rimase là in una posa scontenta aspettando da quella sua presentazione propiziatoria un effetto che già in anticipo gli era negato gli occhioni avversi e attoniti della signora ebbero appena un battito sospettoso a quei suoni tedeschi per lei senza alcun senso se non di qualche minaccia sibillina allora il soldato nello sguardo che pure gli si incupiva lasciò passare un colore animato di dolcezza per il movimento di un affetto inguaribile e stando là mezzo seduto come si era messo sull'orlo del tavolino ingombro in una certaria di malavoglia che tradiva una confidenza gelosa trasse di tasca un cartoncino e lo pose sotto gli occhi di Ida essa vi gettò uno sguardo sghembo e raggelato aspettandosi una tessera di SS con la croce a un cino o forse una foto segnaletica di Ninuzzo Mancuso con la stella gialla ma si trattava invece di un gruppetto fotografico familiare nel quale esse intravide confusamente su uno sfondo di casette e di canneti la persona grossa e radiosa di una tedesca di mezza età circondata da cinque o sei ragazzetti maschi più o meno cresciuti fra costoro il soldato facendo un sorrisetto gliene segnalò col dito uno se stesso più cresciuto degli altri vestito di un giaccone a bento e di un berrettino da ciclista poi siccome le pupille della signora svagavano su quel gruppetto anonimo in una buia apatia passando ad indicarle col dito il paesaggio e il cielo dello sfondo la informò Dachau il suo tono di voce nel pronunciare questo nome fu il medesimo che potrebbe avere un gattino di tre mesi reclamando la propria cesta e d'altra parte quel nome non significava niente per Ida la quale ancora non lo aveva udito mai se non forse appena per caso senza tenerselo a memoria però a quel nome innocuo e indifferente il forastico migratore in transito che ora si identificava col suo cuore senza spiegazione sobalzò dentro di lei e svolazzando atrocemente nello spazio snaturato della stanzetta prese a sbattere fra un tumulto vociferante contro le pareti senza uscita il corpo di Ida era rimasto inerte come la sua coscienza senza altro movimento che un piccolo tremito dei muscoli e uno sguardo inerme di ripulsa estrema come davanti ad un mostro e in quello stesso momento gli occhi del soldato nel loro colore di mare turchino cupo vicino al violaggio un colore insolito sul continente lo si incontra piuttosto nelle isole mediterranee si erano impiti d'una innocenza quasi terribile per la loro antichità senza data contemporanea del paradiso terrestre lo sguardo di lei parve a questi occhi un insulto definitivo e istantaneamente una bufera di rabbia li oscurò eppure fra questo annuvolamento traspariva un'interrogazione infantile che non si aspettava più la dolcezza di una risposta ma lo stesso la voleva fu qui che Ida senza darsene ragione prese a gridare no 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 con una voce esterica da ragazzina immatura in realtà con questo suo no essa non si rivolgeva più a lui né all'esterno ma ad un'altra minaccia segreta che avvertiva da un punto o nervo interno risalita a lei d'un tratto dai suoi anni di infanzia e da cui lei si credeva guarita come tornando indietro a quell'età giù lungo un tempo che lei si accorciava all'inverso essa riconobbe istantaneamente quella grande vertigine con echi strani di voci e di torrenti che da piccola le annunciava i suoi malori ora il suo grito si rivoltava contro tale insidia che la rubava alla salvaguardia della casa e di Nino però questa sua nuova inspiegabile negazione no la sola risposta che lei avesse dato in questo giorno agì sull'ira confusa del soldato come un segnale di rivolta per una trasgressione immensa inaspettatamente la tenerezza amara che lo aveva umiliato col suo martirio fino dalla mattina gli si scatenò in una volontà feroce fare amore fare amore gridò ripetendo in uno sfogo fanciullesco altre due delle quattro parole italiane che per sua propria previdenza sarà fatto insegnare alla frontiera e senza neanche togliersi la cintura della divisa incurante che costei fosse una vecchia si buttò sopra di lei rovesciandola su quel divano letto arruffato e la violentò con tanta rabbia come se volesse assassinarla la sentiva dibattersi orribilmente ma inconsapevole della sua malattia credeva che lei gli lottasse contro e tanto più ci saccaniva per questo proprio alla maniera della soldataglia ubriaca essa in realtà era uscita di coscienza in un'assenza temporanea da lui stesso e dalle circostanze ma lui non se ne avvide e tanto era carico di tensioni severe e represse che nel momento dell'orgasmo gettò un grande urlo sopra di lei poi nel momento successivo la sogguardò in tempo per vedere la sua faccia piena di stupore che si distendeva in un sorriso di indicibile umiltà e dolcezza carina carina prese a dirle era la quarta e ultima parola italiana che aveva imparato e insieme cominciò a baciarla con piccoli baci pieni di dolcezza sulla faccia trasognata che pareva guardarlo e seguitava a sorridergli con una specie di gratitudine essa intanto rinveniva piano piano abbandonata sotto di lui e nello stato di rilassamento e di quiete che sempre le interveniva fra l'attacco e la coscienza lo sentì che di nuovo penetrava dentro di lei però stavolta lentamente con un moto struggente e possessivo come se fossero già parenti e avvezzi l'una all'altra essa ritrovava quel senso di compimente e di riposo che aveva già sperimentato da bambina alla fine di un attacco quando la riaccoglieva la stanza affettuosa di suo padre e di sua madre ma quella sua esperienza infantile oggi le si ingrandì attraverso il dormiveglia nella sensazione beata di tornare al proprio corpo totale quell'altro corpo ingordo aspro e caldo che la esplorava al centro della sua dolcezza materna era in uno tutte le centomila febbri e freschezze e fami adolescenti che confluivano dalle loro terre gelose a colmare la propria foce ragazza era tutti centomila animali ragazzi terrestri e vulnerabili in un ballo pazze allegro che si ripercuoteva fino nell'interno dei suoi polmoni e fino alle radici dei suoi capelli chiamandola in tutte le lingue poi si abbattè ridiventando una sola carne implorante per disciogliersi dentro al suo ventre in una resa dolce tiepida e ingenua che la fece sorridere di commozione come l'unico regalo di un povero o di un bambino non fu per lei neanche stavolta un vero piacere erotico fu una straordinaria felicità senza orgasmo come talora capita in sogno prima della pubertà il soldato stavolta nel saziarsi ebbe un piccolo lamento fra altri bacetti e lasciandosi con tutti il corpo su di lei subito si addormentò essa tornata alla coscienza sentì sul proprio corpo il suo peso che la premeva sul ventre nudo con la divisa ruvida e la fibbia della cintura e si ritrovò con le gambe ancora aperte e il sesso di lui diventato povero inerme e come reciso posato dolcemente sul proprio il ragazzo dormiva placidamente russando ma al movimento che lei fece per liberarsi la serrò istintivamente contro di sé e i suoi tratti pure nel sonno presero una grinta di possesse e di gelosia come verso una vera amante essa tanto era indebolita ebbe l'impressione allo sciogliersi da lui di durare una fatica mortale ma finalmente le riuscì di liberarsi e cadde sui ginocchi in terra fra i cuscini sparsi al lato del lettuccio si riassettò le vesti alla meglio ma lo sforzo le aveva prodotto una nausea che le rivoltava il cuore e rimase là dove stava caduta sui ginocchi davanti al divano letto col tedesco addormentato come sempre ai suoi risvegli del proprio malore non le restava che un'ombra di ricordo nient'altro che la sensazione iniziale di una rapina confusa della durata di un attimo nella sua memoria in realtà c'era un'interruzione totale dal momento che il giovane si era messo a baciarla in faccia bisbigliandole carina carina fino all'altro momento precedente che lui le aveva mostrato la fotografia però anche tutta l'epoca anteriore non soltanto l'ora paurosa che aveva preceduto il suo accesso ma tutto quanto il passato all'indietro le si presentava al ricordo come un punto in arrivo tuttora confuso da un'immensa lontananza lei si era staccata dal continente affollato e vociferante della sua memoria su una barca che in questo intervallo aveva fatto il giro del mondo e adesso risalendo allo stesso scalo della partenza lo ritrovava silenzioso e quieto non c'erano più urla di folla nessun linciaggio gli oggetti familiari spogliati da ogni affetto non erano più strumenti ma creature vegetali o acquatiche alghe coralli stelle marine che respiravano nel riposo del mare senza appartenere a nessuno anche il sonno del suo aggressore la steso davanti a lei sembrava posarsi sulle labbra di tutte le esperienze violenze paure come una guarigione nel girare gli occhi schiariti dal recente malore come da un bagno di trasparenza luminosa essa scorse in terra a qualche distanza una dall'altra le proprie scarpette scalcagnate che aveva perdute al pari del cappellino mentre si dibatteva nell'incoscienza fra le braccia del tedesco ma senza curarsi di raccattarle seduta inerte sui propri talloni scalzi di nuovo fermò sul dormiente gli occhi spalancati con l'aria stupida della ragazzina delle fiabbe quando rimira il drago che una pozione incantata ha reso inoffensivo adesso che l'amante gli era sfuggita il giovane si era abbracciato al guanciale e lo teneva stretto ostinandosi nella sua gelosia possessiva di poco prima però nel frattempo la sua faccia aveva preso un'altra espressione intenta e seria e Ida senza quasi rendersene conto lesse immediatamente il soggetto e la trama del suo sogno anche se non esattamente i particolari il sogno era adatto a uno di età circa d'otto anni c'erano in discussione affari di importanza trattative per la compravendita di biciclette o accessori dove lui aveva a che fare con un qualche tipo di poca fiducia e senz'altro di un genere eccentrico forse un contrabbandiere levantino o un gangster di Chicago o un pirata malese costui cercava di imbrogliare e in conseguenza le labbra del dormiente di un rosa asciutto selvatiche e un po' screpolate si sporgevano in un rimbrotto malrepresso le sue palpebre si indurivano facendogli tremolare le ciglia dorate ma così corte da parere appena una polvere e la fronte gli si corrugava concentrandosi fra i ciuffi dei capelli che erano più scuri delle ciglia lisci e sapevano di una mollezza fresca e umida come la pelliccia di un gattino marrone appena lavato dalla madre sarebbe stato facile adesso ammazzare costui sull'esempio di giuditta nella Bibbia ma Ida per natura non poteva concepire un'idea simile nemmeno in forma di fantasticheria la sua mente distratta dalla lettura del sogno fu adombrata dal pensiero che forse l'intruso seguiterebbe a dormire così fino a tarda sera e Nino rincasando potrebbero sorprenderlo ancora qua però Nino con le sue idee politiche sarebbe stato magari fiero di questa visita e avrebbe salutato il tedesco stupratore di sua madre come un compare invece da un momento all'altro così come s'era addormentato il tedesco si risvegliò di colpo quasi allo squillo brutale di una tromba e immediatamente guardò l'orologio al proprio polso aveva dormita appena qualche minuto tuttavia non gli restava ormai molto tempo per ritrovarsi al centro di raduno in orario con l'appello si stirò ma non con la beatitudine tracotante dei ragazzi quando si scaricano dal sonno piuttosto col disgusto di un'angoscia e di una maledizione quasi che attaccati alle proprie membra ritrovasse dei fei verri carcerari cominciava la penombra del crepuscolo e Ida alzatasi col suo corpo scalzo e tremante si accostò alla presa della lampada per infilarci la spina questa era mal connessa coi fili la luce della lampadina oscillava allora Gunther che in Germania faceva di mestiere l'elettricista tratto di di tasca un suo speciale coltelluccio a serramanico invidia di tutto l'esercito strumento multiplo che oltre alla lama celava pure fra l'altro dentro il manico un rasoio una lima e un cacciavite riparò magistralmente la spina si capì alla sua prontezza volenterosa e piena di impegno che questa operazione aveva per lui un duplice valore primo gli offriva un'occasione seppure minima di spendersi per la vittima del suo delitto il quale adesso nel declinare della sbornia principiava a rimorderlo e a sgomentarlo e secondo gli era pretesto ad indugiare un altro poco in questa cameretta che oggi sia pure a dispetto lo aveva accolto ancora come una stanza umana uscito di qui lo aspettava solo un'Africa finale che oramai non gli si identificava più assolutamente con l'Africa interessante e colorata dei film e dei libri ma con una sorta di cratere deforme in mezzo ad una noia desertica e miserabile frattanto rannicchiata nell'ombra del muro Ida assisteva al suo piccolo lavoro con silente ammirazione perché in lei come in certi primitivi perdurava un sospetto pavido e incoffressato per l'elettricità e i suoi fenomeni finito che ebbe di aggiustare la lampada colui rimase tuttavia seduto come se era messo sull'orlo del lettuccio e giusto come argomento di scambio puntando l'indice sulla propria persona fu sul punto di vantarsi Africa ma si ricordò che questo era un segreto militare e tenne la bocca chiusa per forse un minuto ancora si attardò seduto col torso ripiegato e le braccia abbandonate fra i ginocchi come un emigrante o un ergastolano già caricato sul piroscafo in partenza senza più nessun oggetto da guardare i suoi occhi solitari parevano attirati dalla lampada che adesso brillava di luce fissa a capo del divano letto era la stessa che Ninuzzo teneva accesa la sera per leggere al letto i suoi giornaletti illustrati i suoi occhi esprimevano una specie di curiosità intontita ma in realtà erano vuoti alla luce elettrica il loro centro turchino scuro pareva quasi nero mentre il bianco intorno non più iniettato né intorbidato dal vino si mostrava latteo e intriso di celeste spontaneamente il ragazzo li levò verso Ida e lei ne incontrò lo sguardo straziato di un'ignoranza infinita e di una consapevolezza totale sperdute insieme l'una e l'altra a mendicare una carità unica impossibile e confusa anche per chi la chiedeva sul punto di andarsene gli venne idea di lasciarle un ricordo secondo un'usanza tenuta in certi suoi addii con altre ragazze però non sapendo che cosa darle mentre si frugava nelle tasche vi ritrovò il suo famoso coltelluccio e per quanto il sacrificio gli costasse lo depose nella palma di lei senza altre spiegazioni in cambio lui pure voleva portarsi un ricordo e girava lo sguardo perplesso intorno alla stanza senza scoprirvi niente quando gli cadde sott'occhio un mazzetto di fiori d'aspetto pesto e quasi unto offerta di scolari poveri che nessuno si era curato di mettere in fresco dalla mattina e giaceva su una mensola mezzo appassito allora ne staccò una piccola corolla rossiccia e deponendola con serietà in mezzo a certe sue carte nel portafoglio disse me in ganzen le ben langa per tutta la mia vita per lui naturalmente non era che una frase e la disse col solito accento millantatore e traditore di tutti i ragazzi quando la dicono alle ragazze è una frase di figura da usarsi per l'effetto ma logicamente non vale giacché nessuno può credere davvero di conservare un ricordo per tutta l'indescrivibile eternità che è la vita lui lui non sapeva invece che per lui questa eternità si riduceva a poche ore la sua tappa a Roma fu conclusa quella sera stessa di lì a meno di tre giorni il convoglio aereo su cui lo avevano appena imbarcato dalla Sicilia verso una qualche direzione sud o sud est fu attaccato sul Mediterraneo e lui era fra i morti di lì di lì di lì di lì Grazie a tutti